Buongiorno a questo esame finale di dottorato. Mi tocca di recitare un po' di formule iniziali. Il giorno 16 aprile 2020, alle ore 10.30, si è riunita in modalità telematica tramite Microsoft Teams la commissione di esame per il conferimento del titolo di dottore di ricerca in Ingegneria Industriale, sede amministrativa presso l'Università degli Studi di Napoli Federico. La commissione, nominata con decreto rettoriale 1032 del 18 marzo 2020, è presente al completo nelle persone del sottoscritto. Professore Francesco Flammini, ordinario presso Melardalen University, Svezia, professore Giovanni Russo, associato presso l'Università degli Studi di Salerno, professor Michele Celebrano, associato presso il Politecnico di Milano. Io sono, come detto, il Presidente e funge da segretario il professor Giovanni Russo, che si occuperà di redigere il verbale. Dichiaro aperta la seduta e in base al capo 5 del regolamento di disciplina del dottorato di ricerca, preciso che ai sensi dell'articolo 19 del regolamento, l'esame finale consiste nella valutazione dei risultati scientifici conseguiti, del grado di approfondimento delle metodologie per la ricerca nei rispettivi settori e della formazione scientifica raggiunta dai candidati nel corso degli studi di dottorato. Il titolo viene rilasciato a seguito della positiva valutazione di una tesi di ricerca che contribuisce all'avanzamento delle conoscenze e delle metodologie nel campo di indagine prescelto. Nell'ambito della citata valutazione si terrà conto altresì della valutazione espressa dal Collegio dei Decenti sulla complessiva attività svolta dal candidato e dell'esposizione della tesi finale. Allora, la Commissione prende atto che i nominativi dei candidati al conferimento del titolo di dottore di ricerca sono i seguenti. I componenti della Commissione, ai sensi degli articoli 51 e 52 del Codice di procedura civile, e dichiarano che in relazioni ai nominativi dei candidati non sussistono situazioni di incompatibilità e o vincoli di parentela e o affinità. Allora, i candidati presenti in collegamento telematico, faccio l'appello, sono Marco Coraggio. Sì. Presente. Sì, presente. Stefano Marrone. Presente. Raffaele Martino. Presente. Antonio Montieri. Presente. Valentino Scalera. Presente. Mario Selvaggio. Presente. Roberto Tricarico. Presente. Perfetto. A ciascuno di essi ha provveduto ad inviare alla Commissione la tesi, i giudizi dei valutatori e la valutazione del collegio dei docenti. In realtà la valutazione del collegio dei docenti l'abbiamo ricevuta dal coordinatore, come stabilito dall'articolo 21, ultimo comma del regolamento e disciplina del dottorato di ricerca. Allora, diciamo abbiamo deciso che anche se ci avete inviato i vostri documenti di riconoscimento via email all'inizio della vostra presentazione, se potete mostrarci cortesemente la vostra carta d'identità utilizzandola alla webcam, così possiamo procedere ad una identificazione remota. Presidente, chiedo scusa, considerando che è anche tutto in diretta streaming su YouTube, possiamo magari effettuare questo passaggio in forma un po' più privata? Ma questa è una seduta pubblica, perché mi chiedi questo? No, solo per mostrare il documento in webcam, però se non è possibile non è un problema. Ok, perfetto, grazie mille. Abbiamo risolto questo dilemma, va bene. Ok, quindi procederei con la convocazione del candidato Stefano Marrone, che è invitato cortesemente a condividere la sua presentazione in modo che possiamo seguirla. Io oscurerò il mio collegamento video, invito anche gli altri membri della commissione per evitare un sovraccarico di banda e rendere più fluida la connessione, cercando di limitare il rischio di problemi. Voi riuscite a vedere la mia webcam, quindi mostro prima il documento? Sì, se ci mostri prima il documento, cortesemente. Perfetto. Aggiungo poi un'ultima cosa, mi raccomando tutti gli altri candidati, così come noi, il microfonino sempre spento durante la presentazione, perché potrebbe essere un po' fastidioso intervenire mentre sta presentando il candidato per silenziare le persone, ok? Quindi mi raccomando, e poi fate sempre attenzione che il microfono potrebbe essere sempre acceso, che è successo di tutto in questo periodo. Va bene. Ok, io mi sono permesso di dare del tu a Stefano, se va bene, anche per gli altri candidati. Certo. Un'altra cosa sulle tempistiche, ora noi abbiamo degli slot, secondo la pianificazione, di 35 minuti. Vabbè, abbiamo già sforato perché in teoria il programma doveva cominciare alle 10 e 30, però, diciamo, cortesemente, se riuscite a stare come presentazione sotto i 30 minuti, meglio se intorno ai 25, così abbiamo anche un po' di tempo per le nostre domande. Perfetto. Ok, detto ciò possiamo cominciare. Mostro il documento e poi condivido la presentazione appena mi datelo ok. Perfetto, grazie. Ok, allora condivido la presentazione. Mi date conferma di visualizzazione? Sì, io la vedo bene. Sì, mi ero già silenziato. Sì, sì, si vede bene. Ok, so, good morning, everyone. This is Stefano Macrone, and today I'm going to show you the results of my research activity during my PhD in the field of trustworthy AI. I'm a member of the Priamus Research Group led by Professor Carlo Sansone. I had a fellowship from Cini, and I've spent eight months at the Imperial College of London, and I'm interested in the Doctor Europea's label. So, the whole thesis has been built around the concept of trustworthy AI. As we will see in the thesis, Resiliency, Introduction on the motivation behind this thesis. In particular, we will see two aspects. The possibility of misleading AI and the ethics tweets that might be associated with the use of AI. So, but what is artificial intelligence? Well, there is a huge mess in the definition, mostly because of the media. But what media usually refers to with artificial intelligence is actually machine learning. So, the ability of an algorithm to learn from examples. More recently, deep learning is making the news, but it's important to take into account that deep learning is not something really new, but it's just a particular kind of machine learning algorithm. Deep learning, and in particular, convolutional neural networks are making the news because their ability of learning the best set of features from the task itself. This is true in particular for images where they showed astonishing performance, but this is true almost in any field. And one of the other particular particularity is that they are able to learn a concept hierarchy like the human brain. And in particular, this, let's say, connection with the human brain starts asking some questions. For example, let's focus for a moment on the human visual perception system. In the figure on your right, there is what is usually called optical illusion. This is something that has been crafted to mislead the human visual perception system. Indeed, if I ask you how many circles there are, well, it's not straightforward. But as soon as I use some reference, it's clear that the number of circles is just two. So, the idea, the insight is, but since deep neural networks, in particular CNN, are somehow inspired by the human brain, is it possible to craft something similar to mislead deep convolutional neural networks? Well, spoiler alert, the answer is yes, but let's see how this works. On your left, there is a picture of a cat. And actually, if you submit this image to a CNN, it will be recognized as a cat with 99% of probability. But as we did with the optical illusion, what if we craft a noise with the intent of misleading the CNN? Well, the result will be the image on your right. For a human viewer, it will still be a cat, clearly. But as you can see, I hope you see my pointer, there is some noise somewhere in the image, but it's not enough to mislead a human viewer. However, this noise is enough to mislead a deep CNN. And in fact, this image will be classified as dog. This is called adversarial perturbation, disperturbation. And adversarial perturbation will be one of the point that will lay the foundation for the thesis. The other aspect is associated with the ethics. Well, we know for sure that machine learning, and in particular deep learning, is very, very useful. And we use it in everyday life. But there are some situations in which it might create some strange situation. For example, in 2012, Staples started to use machine learning algorithm to fix the price of items based on the customer proximity to a competitor store. Well, the algorithm started to set higher prices to low income customers, just because it turned out they generally live farther from competitor stores. And this is clear and unfair behavior. Another very, very bad situation happened with the Google automatic tagging algorithm, when it started to associate very racist and offensive tag to picture of black people. Something similar also happened to Microsoft with its Twitter chat bot, Tai. Tai was intended to be a Twitter chat bot behaving like a teenager, a female teenager. Well, in just a few hours, it started to learn from the other people on Twitter, and started writing down very offensive, inflammatory, and Nazi posts. And Microsoft had to shut it down. Finally, one of the worst situations that unfortunately are still happening are associated with the Compass assessment algorithm. It's an algorithm used by some US courts to decide the risk for an offender to re-offend. Unfortunately, this algorithm is totally black box, so there is no way to understand how it works. But some strong pressure from media, the authors of the algorithm said that actually, with the same background and for the same offense, the algorithm might output a different score based on the gender, on the ethnicity, and on the age. And this is clearly super unfair. In all the problem I discussed so far, the problem was not in machine learning or CNN, but always in humans. For example, in the case of the Google tagging problem, it turned out that the dataset is full of racially and very badly labeled images. The problem is that machine learning is nowadays so spread that big players, including the European Commission, for example, are starting asking questions on how should we manage this. For example, on the left, there is a post from Joe Redmond, who is one of the authors of the YOLO algorithm, one of the most performing object detection algorithms, who stopped working on computer vision for its ethical implications. So, these are the motivations behind this thesis. We will see how these three aspects can be addressed or can be highlighted by the use of adversarial perturbation, always keeping in mind the problem associated with ethics, fairness, and privacy. Let's start with the concept of resiliency. Well, one of the flip side of deep architecture is that they are extremely computational demanding and usually require a huge amount of trained labeled data, sorry, to converge. Fortunately, it has been proved that deep architecture, this is actually true for a lot of machine learning algorithms, but particularly true for CNN and for some other deep algorithms. It has been proved that those algorithms can be used also for tasks different from the one used for the training. This concept goes under the name of knowledge transfer. And for example, this is particularly effective with CNN because CNN can be seen as composed by two main parts. A convolutional part was in charge of learning the best set of features to describe the task, and a fully connected part that is in charge of using those features to perform the actual classification task. Well, if we train a CNN on a quite huge dataset, for example, ImageNet, who has 1.5 million training symbols over 1,000 classes, well, the features learned are very, very effective also for different tasks. And all you have to do is just to change and to readapt, to retrain this part, the fully connected part. This makes CNN very resilient. That means they are able to keep behaving in a correct way also in the presence of a different input. The question we are trying to answer here is, is there a way to further modify the transfer knowledge approach to make CNN even more robust? Okay, even more resilient. Well, to this aim, we introduce the concept of hidden layer sizing. That means focusing only on the fully connected part, we will totally change the shape of this part, meaning removing some neurons, totally removing some neurons from the right side of the network, with the aim of forcing the network in learning some particular aspects of the task under analysis. As a proof of concept, we proposed two approaches to change the number of neurons, but clearly there are several ways of doing this. Since we know that the effectiveness of the approach can be strongly affected by the considered network structure, the user optimization algorithm and the user dataset. In our experimental setup, we changed all these aspects, combining all the possible combinations to analyze the results. And results not only shows that with the same performance levels, so we will have no loss in performance, the network is the approach is able to say up to 30% in terms of parameters and up to 40% in terms of use of the memory, but also that the obtained networks are more robust against adversarial perturbation. Indeed, if we measure the robustness of the networks in terms of the magnitude of noise needed to mislead the CNN in this way, well, it turns out that the proposed approach makes the network more robust. And in fact, you need a higher magnitude noise to mislead the network. So, after this part, we will focus on security. And what with security means deep learning is spread everywhere and also in security critical application. Given that we showed that CNN can be misled by using adversarial perturbation, what happens in the security critical application? Let's see. One of the most spread security critical application that is spread so far are biometric based authentication systems. You all are probably using a fingerprint based authentication system to log in in your laptop or in your smartphone. And fingerprint are particularly very spread because they are super cheap. The sensor, I mean, is super cheap and the recognition is very effective. However, and this is not only true for fingerprint, but for almost all the authentication means, there is possible to bypass the authentication system by creating a fake replica. This approach is known as presentation attack. And in the image, you can see some fake replicas of fingerprints. To face this problem, researchers developed liveness detectors. Liveness detectors are system intended to analyze the biometric, in this case, a fingerprint, for example, before its submission to the real authentication system. And the aim of a liveness detector is to determine whether the submitted fingerprint, but again, biometrics, is real or is a fake replica. We are talking about this because, as for many other computer vision tasks, also the current state of art for fingerprint liveness detector is based on CNN. So, the question is, we showed that it's possible to use adversarial perturbation, but can we exploit adversarial perturbation to modify a fake fingerprint in order to make it recognized as live by a liveness detector and so to get access to the system? To do so, we propose this attack that goes under the name of adversarial presentation attack. The idea is, as I said, is to inject an adversarial perturbation after the fingerprint acquisition. But paying attention to one detail, the modified, the perturbed fingerprint should have a noise enough strong to mislead the liveness detector, but the noise should not be too strong. Otherwise, it will destroy the authentication characteristics needed by the authentication system. And in particular, in the case of fingerprint, the authentication characteristics are the minutiae. And we must be sure that this will not be destroyed by our attack. There is also another detail that we need to take into account. Adversarial perturbations algorithm were designed to work with natural images. So, if we apply them as they are on a fingerprint, this is the result. And clearly, this is way far from a real fingerprint. So, we modified the attack in order to take into account for two other constraints. First, only gray level perturbations are allowed because a real fingerprint is just gray scale. And only pixels within the region of interest, within the fingerprint, can be modified. As did for the other scenario, also in this case, in our experimental setup, as a case of study, we are focusing on three different adversarial perturbation algorithms, testing our approach on a public competition for fingerprint liveness detection. And the name is LiveDat. In particular, we used the 2015 edition. And as a liveness detector, we used that edition winner that was based on a BGG DeepCNN. As you can see, we choose this dataset because the fingerprints were acquired by using four very different scanners. And also, the type and the number of used spoofing materials is very different. Well, the result shows not only the effectiveness of the approach. I'm sorry if I'm going very fast on the results, but you can find the complete list of the results in the thesis. Anyway, the results not only shows the effectiveness of the approach, but also highlighted that the result is hard to recognize by a human viewer. In this case, these are two examples of unsuccessful attacks. And this is the successful result. However, while we were publishing that paper, a new paper had been published. And in that case, it was a new state of art for the same dataset for the LiveDat 2015 edition. This paper introduced a new concept for liveness detection based on CNN that analyzed the fingerprint in another way. Our attack was still effective, but extremely time-consuming in that scenario, making it unrealistic. So, the idea was, can we use a simpler liveness detector to determine, to craft the adversarial perturbation, and then use that adversarial perturbation against the real target liveness detector? So, this one, the new one. To do so, we defined this attack scenario. And in this case, we defined two liveness detectors. The shadow liveness detector, that is the simpler liveness detector created by us just with the aim of crafting the adversarial noise. And the target liveness detector, that is considered as totally black box. In this scenario, clearly the results are not so effective as in the past case. But, as you can see, this strongly depends on the sensor more than on the adversarial perturbation. This behavior is actually expected because, although all the sensors are used to acquire fingerprints for all the subjects, and all the sensors, and all the sensors are optical. The details and the different characteristics, for example, in the lens, acquisition plate, etc., makes a huge difference, for example. These are two fingerprints from the same finger of the same subject occurred by using a different scanner. And you can see, it's not straightforward to move from one to another. Finally, we will address the last point, the last aspect. The idea here is different. What are the ethical implications with a misuse of an artificial deep neural network? And how can we exploit adversarial perturbation, let's say, to defend against these unwanted behaviors? Well, the motivation behind this are in soft biometrics. Soft biometrics are just a different class of biometrics. They are called soft because they are not powerful enough to uniquely identify a subject, but are enough to give you some side information, for example, gender, ethnicity, age, etc. But is it possible that the automatic processing of such soft biometrics, for example, the analyze of our profile picture on a LinkedIn account, can be used somehow against us? This behavior should not come as a news because this behavior is actually done by humans and goes under the term of lookism. It means that attractive people tend to get more financial and social benefit just because they are attractive. So would you be fine with an automatic algorithm starting to do the same? And I mean, for example, with an eye starting to decide whether you deserve or not a job or a loan just on the basis of your aspect, on the basis of your appearance. Well, this is actually already happening. And this particularly made the news when an algorithm face-scanning algorithm decided whether you deserve or not a job. In this case, so we changed our idea and it was, can we realize, can we exploit a different kind of adversarial perturbation that goes under the name of adversarial patch to print, to realize something that we can print and wear on, for example, in the size, in the shape of a pendant, and make such algorithm no longer be able to recognize our soft biometrics while still preserving our face so that the human viewer can still analyze it. You can see an example on your right where a banana that is correctly classified as a banana after an adversarial patch is recognized as a tool store. As happened for the case of fingerprint, clearly the original algorithm were not able to do what we want. And so we modified, we realized a new algorithm in five steps that creates a new adversarial patch that is totally invariant to the person who is using it. So it is able to work with several persons and is also invariant to size, to resize, to change in rotation, illumination, and so on. To prove the effectiveness of the proposed approach, we used the UTK face dataset. And this dataset was very, very interesting because it consists of five different ethnicities and, in particular, pay attention in the fact that there is a huge variation in pose, illumination, resolution, age, and the use of objects. So this makes our experiment more realistic. These are the results that not only show that the approach is effective, but also that it's invariant to the position and to the sides of the adversarial patch. But that was not enough. So we made a step further analyzing the effectiveness in the real world. I mean, in this case, both the image we are going to attack, we are going to perturb, and the patch both live in the computer domain. Okay? Both are digital images. But we proved that we can print the obtained image and it will still work. And also, if we acquire the image from a live camera, live webcam, it keeps working. It keeps working. Moreover, we also did another step. So we both were acquiring the image live from a webcam and using a printed adversarial patch. I had this presentation recorded to show you how my class moved from white to Indian as I overlap my face, as I show this adversarial patch over my face. But to prove that is not just because I'm covering part of my face, if I just flip the adversarial patch and cover almost all my face, as you can see, this clearly will affect the probability, the classification probability, but I will still be a white guy. So, in conclusion, some ending notes. All the thesis was written with the aim of rising awareness about security, ethical, and fairness streets associated with the AI system. The idea is that AI is extremely spread and it will be extremely useful. As many people say, and I agree with them, this will lay the foundation for the fourth industrial revolution. AI is not to blame. All the problems I showed are not because of AI, sorry, because of AI, but always because of people misusing it. So, our aim was again to raise awareness and I really hope that all the people who are using and will use machine learning in the future will keep this in mind. And all the tweets and consequences associated with its misuse. These are some honors and rules held during my PhD period. And these are the list of authoritative publications during my PhD period. Have you any questions? Just ask. Allora, eccoci qui. Allora, innanzitutto ritorno a lei, manteniamo diciamo lo stile italiano un po' più formale, la ringrazio per la presentazione, è molto interessante. Allora, in generale dico che le prestazioni, per quanto mi riguarda e credo sia lo stesso per gli altri membri della commissione, possono essere tenute sia in italiano che in inglese. Se vuoi, se non è un problema, la discussione la manteniamo in italiano, perché non ci sono membri della commissione che non parlino l'italiano e anche gli altri candidati sono di lingua italiana. Quindi andiamo avanti così. Fermo restando che, insomma, come nel suo caso, gli altri candidati possono decidere di fare la presentazione in inglese, non c'è nessun problema. Allora, entrando nei dettagli tecnici, ho qualche domanda sulla parte etica. Allora, lei ha stressato e apprezzato, diciamo, l'aspetto multidisciplinare del lavoro che, diciamo, va a combinare sia aspetti tecnici che aspetti etici, diciamo, e che, insomma, convergono nel concetto di trustworthy AI. Mi incuriosiva particolarmente, visto che se ne parla tanto, l'impatto sui sistemi critici. Lei ha parlato di security, ma ci sono tanti sistemi safety critical in cui si parla, per i quali tipo le self-driving cars, le automobili a guida autonoma, in cui si parla tanto di dilemmi etici che emergono nel momento in cui un'auto guidata autonoma si trova di fronte a una situazione in cui deve prendere una decisione, ad esempio, se salvaguardare la salute del guidatore o dei pedoni e di quali pedoni nel momento in cui debba fare una sterzata e quindi qualsiasi decisione il sistema autonomo dovesse prendere si avrebbe comunque, la decisione comporterebbe comunque, diciamo, il danno o la perdita di almeno una vita umana. In questo caso qui non si parla di discriminazione, almeno potrebbe anche in questo caso esserci una discriminazione, ma non nel senso del riconoscimento facciale, diciamo, è una sfumatura diversa del dilemmo etico. Mi chiedevo se lei avesse affrontato anche questa problematica e con quali risultati. Certo. Allora, chiaramente la problematica non solo è ampissima, ma è tutta già aperta, non ha ancora una risposta. E probabilmente è proprio il problema che non può essere risolto. Tuttavia ho sicuramente affrontato il problema e infatti nella tesi potete trovare un intero capitolo dedicato a un'analisi puramente etica del discorso, nella quale ho provato a ragionare da che punto di vista dovremmo porci nell'analisi appunto dei dilemmi associati con non solo un misuso malevolo, ma anche malfunzionamenti che poi possono provocare la perdita di vita umane o comunque dei danni anche economici considerevoli. Tra vari aspetti che ho evidenziato, alla fine le conclusioni evidenziano, portando delle prove a sostegno di tali tesi, che è probabilmente l'unico modo di considerare tali sistemi da un punto di vista deontologico, ma per il semplice fatto che dobbiamo ricordarci che per quanto potente e per quanto l'intelligenza artificiale in qualche modo ci ricorda un essere sensiente, bisogna ricordare che rimane nient'altro che con tool. E quindi è importante tenere in considerazione che come tool è l'operatore che deve utilizzarlo in maniera corretta e chi l'ha realizzato che deve progettarlo in maniera corretta e quindi bisogna necessariamente tenere in considerazione tutta la catena di comando nell'atto della presa di decisione, nell'analisi delle conseguenze. Non so se ci sono altre domande da parte degli altri membri della Commissione, altrimenti io andrei avanti con un altro paio di domande. Una breve domanda riguardo la parte finale, il famoso patch per ingannare gli algoritmi. Ho una curiosità, il patch è abbastanza irregolare, particolarmente irregolare, e con un salto in pixel abbastanza estremo. La mia domanda è, un algoritmo sarebbe in grado, perché comunque il volto umano invece ha dei transienti, cioè comunque una foto ha dei transienti abbastanza graduali da pixel a pixel. Quindi la mia domanda è, questo patch è comunque anche molto facilmente individuabile e eliminabile da un algoritmo in questo senso? Sì e no, e mi spiego meglio. In realtà, come tutte le cose, questa è stata una proof of concept per dimostrare che il problema sussiste e che poteva essere sfruttato. Ma come in tutti i problemi di sicurezza, perché per certi versi anche questo poi diventa un problema di sicurezza, non è altro che la solita corsa traguardi e ladri. Sviluppata una tecnica di difesa, si può realizzare velocemente la contromossa, e quindi realizzare una nuova modalità di attacco che è efficace e riesce a bypassare quella difesa. Nel caso specifico, ad esempio, è stato mostrato che è possibile ottenere lo stesso effetto anche dipingendosi il volto. Quindi ad esempio utilizzando un opportuno trucco. E in quel caso l'algoritmo ha più difficoltà a discernere il contenuto del viso da quello del trucco. E ovviamente anche in quel caso io potrei andare oltre e ad esempio utilizzare degli occhiali. Gli occhiali vengono riconosciuti come un oggetto e quindi non possono essere facilmente rimossi, ma anche se fossero rimossi io posso andare oltre e ad esempio, come succede nel caso dell'iride, falsificare delle lenti a contatto e quindi inserire dei pattern che possono alterare il problema. Come sempre, ripeto, sarebbe ed è tutt'oggi una gara tra l'attaccante e il difensore. E al momento stanno vincendo gli attaccanti. Ok, grazie. Io avrei anche una domanda. Grazie a te. Non so, ho visto un po' il suo stato dell'arte. Mi chiedevo se era corrente, anche c'è un toolbox recentissimo, recentissimo, sei mesi, che è già vecchio in questo campo, di IBM, che ha saluto vastness, che ha costruito a Dublino. Mi chiedevo quale fosse la relazione dei suoi risultati con quelli del toolbox e poi anche la relazione rispetto alla differential privacy, che in fondo considera appunto di preservare privacy iniettando del rumore. Quindi volevo un po' un commento su questo. Perfetto. Allora, sì, l'art toolbox lo conosco molto bene, ho contribuito anche alla sottomissione su GitHub di un paio di attacchi, in realtà un paio di casi d'uso. Però c'è da dire che tutto questo lavoro non è stato sviluppato utilizzando arte, ma ho realizzato autonomamente tutti gli attacchi, perché al momento poi della scrittura dei vari articoli, questi, come potete immaginare, sono frutto dei tre anni di ricerca e il toolbox, quando ho iniziato la mia ricerca, non era ancora così pronto, così come mi serviva, e quindi ho realizzato autonomamente tutti gli algoritmi, in particolare ho utilizzato MATLAB. Per quanto riguarda il collegamento con la differential privacy, è importante evidenziare che sì, sicuramente ci sono delle similitudini, ma ci sono anche delle grosse differenze. Quello che fa differential privacy è proteggere, è più che proteggere, identificare delle garanzie matematiche sull'impossibilità di individuare i soggetti univocamente all'interno di un gruppo di soggetti, detto in maniera estremamente semplice ed evidenziando il caso principale per cui è nato. Ed è una cosa diversa da questo punto di vista, anche perché lì il tipo di rumore che viene introdotto è prettamente sui dati aggregati. Quindi, ad esempio, faccio un caso che, ripeto, non sviluppa e non dà merito all'intero concetto del differential privacy, però potrebbe essere abbastanza efficace. Se io, è stato dimostrato, ad esempio, che bastano veramente pochi punti, intesi come poche caratteristiche, poche superficie, per individuare univocamente soggetti in una grossa base di dati. Ad esempio, è stato visto che negli Stati Uniti, avendo solo lo zip address, il cognome e l'età, è possibile individuare il 95% della popolazione. Ora sto dicendo dei numeri un po' a caso, però questi erano grossomodo gli ordini di grandezza. Differential privacy in quel caso è efficace, perché ad esempio posso decidere di lavorare su un differente livello di aggregazione o aggiungere appunto un noise all'interno dell'età. Quindi invece di dire 55 anni, posso dire nel range 50-60. È diverso invece da un attacco che mira a difendere il singolo soggetto, come noi abbiamo fatto nel caso delle adversarie al returbation e delle adversarie al patch in particolare. Sì, no, io quello forse non era chiarissima la mia domanda. Ah, lo scusa. Quello che intendevo, nel senso, inettiamole il rumore, perché voglio proteggere i miei dati, la mia immagine, la mia immagine facciale. È possibile in questo modo ingannare un sistema nel senso di sicurezza? Sì, ci sono tanti attacchi che ad esempio fanno una cosa diversa. utilizzano questo tipo di strategia per l'impersonification e quindi per permettere a una persona di essere riconosciuta, ad esempio, come il CEO di un'azienda e quindi accedere al cavo di una banca. Sto facendo ovviamente degli esempi volutamente forzati. E quindi può commentare sul trade-off necessariamente che deve esistere, quindi tra privacy e security? Assolutamente, assolutamente. Io non sono uno dei sostenitori del trade-off, devo dire la verità, e potrei essere un po' in controtendenza. Il resto dell'idea, e questo è sicuramente a causa del periodo che ho speso all'Empical College, perché sono stato ospitato dal Computational Privacy Group, si occupano sostanzialmente solo di questo. Il resto dell'idea è che la privacy è uno dei diritti fondamentali dell'uomo e quindi come tale va sempre preservata e vanno individuate delle strategie e delle tecniche che permettano di comunque ottenere tutto quello di cui abbiamo bisogno, ad esempio auto-guido autonoma o comunque sistemi di sicurezza, capacità di difenderci dai terroristi o comunque da atti inaspettati, senza però per questo mettere a repentaglio il diritto alla privacy delle persone. È per un motivo molto semplice, a mio avviso. Come purtroppo tutte le cose, e questa è una mia considerazione puramente personale, quindi me ne assumo le responsabilità, molto spesso quelli che poi vanno a rimetterci sono le persone più povere. E in questo caso la privacy è proprio una delle cose che le persone più povere hanno più difficoltà a proteggere. Va bene, grazie, interessante. Aprirebbe tutta un'altra discussione. Assolutamente sì. Io diciamo, infatti, mi dispiace perché siamo già lunghi e assolutamente non voglio togliere tempo gli altri candidati. Avrei anche io qualche altra curiosità, più che domanda, diciamo, sul discorso della quantificazione del rischio, perché appunto mi interessa molto l'applicazione ai sistemi critici e quindi relative problematiche aperte di standardizzazione rispetto agli standard utilizzati tradizionalmente per i safety critical systems. E poi altre curiosità sulla multifactor authentication, nel momento in cui si vanno a combinare, diciamo, tecnologie biometriche sia per gli aspetti fisici che per quelli comportamentali. Anche lì ci possono essere discriminazioni, ma sicuramente la combinazione più tecnica è potenzialmente potente, diciamo, ha più potenzialità, ma introduce poi con tutti altri ulteriori aspetti di complessità rispetto agli adversari alla tax, perché poi si apre, diciamo, un mondo, immagino, molto più vasto. Ok, però andrei avanti. Allora, abbiamo iniziato alle 10.45, se mi sono appuntato correttamente il tempo. Siamo un po' in ritardo, cerchiamo per quanto possibile di recuperare, altrimenti rimanderemo la pausa a pranzo rispetto al programmino che abbiamo abbozzato. Ho dimenticato di dire che tutti i candidati che presentano questa mattina, quindi Stefano Marrone, Antonio Montieri, Mario Selvaggio, Roberto Tricarico, sono candidati anche al titolo di Doctor Europeus. Ok? E quindi, andando avanti, ringrazio Stefano Marrone per la sua presentazione, per il risposto alle nostre domande e convoco quindi il prossimo candidato che è Antonio Montieri. Buongiorno. Good morning, everyone. I am Antonio Montieri, a PhD student of the 32nd cycle of the ITE PhD program. My tutor is the professor Antonio Piscopé, and today I will present my research activities regarding the proposal of novel methodologies for mobile and encrypted traffic classification via machine learning approaches. I have graduated in the Federico Secondo University in computer engineering. I am part of the traffic research group leaded by professor Antonio Piscopé that is part of the broader comics research group working in the area of computer networks. During my PhD period, I had several cooperations with both companies and research institutions, and my fellowship is financed by an university PhD grant. Specifically, I made two experiences abroad, the first at the Simula Met in Oslo for around two months, the second at India Networks in Madrid for around three months. Mobile traffic constitutes nowadays a great portion of internet traffic. It is also estimated by a number of recent reports, like the one of Cisco shown in the slide, that by 2022, Wi-Fi and mobile devices will account for around 79% of the total internet traffic. So, performing mobile traffic classification that is answering to the following question, what is flowing through my mobile network is an extremely interesting task, but also it is really challenging. Indeed, we need to associate to a given traffic classification object that is a set of network packets the specific application that has generated it. If, on one hand, mobile traffic classification is challenging, on the other hand, it provides valuable information for a number of stakeholders, like, for example, advertisers, insurance companies, security agencies, but also raises privacy issues related, for example, to surveillance in enterprises' environments or of context-sensitive apps, like dating apps, healthcare apps. The challenges related to mobile traffic classification are specifically related to the fact that mobile apps generate a huge volume of traffic that evolves at a very fast pace. Indeed, on our smartphones, we can install in a very simple way the apps. The apps updates very frequently and usually in an automatic fashion and also, given an app, it exists different version of this app on different operating systems and on different devices and these differences could change the shape of traffic. Moreover, the great part of mobile traffic is encrypted. The encryption hinders the utilization of methods that classify the traffic based on the inspection of the clear text content of packets, but also, it pays the way for the utilization of machine learning based approaches. Specifically, in my thesis, I have proposed a set of novel methodologies for mobile and encrypted traffic classification via machine learning approaches. Specifically, each methodology is particularly innovative for the specific challenging task that it wants to solve. First of all, I will show how multi-classification can be used for solving this task. Secondly, I will show the utilization of a hierarchical classification framework. Then, I will propose the usage of deep learning for mobile and encrypted traffic classification. And finally, the deployment of deep learning classifiers on big data platforms. I would also highlight that all these methodologies should be considered as a part of a whole framework whose joint adoption has to be analyzed as a future work. An important aspect that is complementary and orthogonal to the specific methodology applied is the data quality. Indeed, data-driven traffic classification methodologies require datasets that are reliably labeled to ensure proper realization, validation and evaluation of the methodologies. For this reason, I have proposed and implemented Mirage that is a reproducible architecture for generate and capture mobile traffic and automatically construct a high reliable ground truth. Mirage is composed of two different parts. A capture system that provides connectivity to multiple smartphones used by human experimenters and contextually captures the traffic generated by mobile apps and system code log files to construct the ground route. This construction is performed by the analysis system highlighted in red that performs the ground route and dataset building and also the version 2019 of the Mirage dataset has been publicly released for reproducibility and future analysis on this topic. to assess the methodologies that I have proposed two different types of data are considered. The first one are three mobile app traffic datasets two multi-class datasets collected on Android and iOS and one binary dataset collected using Mirage and encompassing the traffic of Facebook Facebook Messenger apps and the public Anon 17 dataset that encompasses the traffic of the three anonymity tools Tor E2P and John Donim shown in the slide. The first methodology that I will show is the usage of multi-classification framework that has been used with the aim to improve the classification performance of state-of-the-art machine learning classifiers. A multi-classification framework combines a number of base classifiers taken from the state-of-the-art that I have previously studied, implemented and evaluated and then combined using two different techniques hard and soft approaches. Hard approaches are based on the combination of the output of each classifier while soft approaches takes into account also the class prediction probabilities associated to each app. Using a multi-classification framework, I was able to effectively improve the performance of the base classifiers is considered. In this slide, indeed, I show that the performance of the best classifiers when compared with both the best hard combiner and best soft combiner is improved. Also, the best combination approaches being more complex have better performance than the hard combination ones. Moreover, when considering only a selection of the classifiers to be combined, I was able to obtain further better performance than considering the combination of all the classifiers, obtaining up to 7.3 F-measure increments with respect to the best state-of-the-art classifier. If multi-classification allows to effectively improve the performance of machine learning based traffic classifiers, traffic classification presents an intrinsic hierarchical granularity and the classification at different granularities can be useful for different goals. Imagine, for example, the possibility to differentiate or prioritize traffic based not on the specific application but on the traffic type. Thus, I have proposed a hierarchical approach for encrypted traffic classification that allows to obtain classification at different granularity levels. A hierarchical classifier provides a number of benefits by design, like the possibility to selectively optimize each node in the hierarchy, for for example, considering different classifiers and different number of features or providing a distributed deployment of the classifiers. Specifically, I have proposed an implementation of the general hierarchical framework considering the classification of the encrypted traffic generated by means of anonymity tools and using for this task the publicly released Anon17 dataset that provides for each traffic object three different granularity levels. The first one is the anonymous network in which the traffic is generated that is Tor, E2P or John Donim and then for each anonymous network I was able to further classify considering the traffic type and then for each traffic type also the specific running application. The results obtained when considering the classification of the specific application considering in this slide the confusion matrices reporting on the x-axis the predicted application and on the y-class the actual when passing from a flat to a hierarchical approach it can be seen that the error patterns on the application are more confined within the same anonymous network shown in green borders or even within the same traffic type shown in black borders this means that the error patterns in this case are less severe moreover a hierarchical structure allows also to perform a per node performance breakdown indeed it can be seen that for each node different classifiers could be considered for example in this case a random forest and in this case a Bayesian network with also different number types of issues moreover we can also able to identify possible performance bottleneck in the hierarchy as for example in this case the classification of E2P apps is more difficult to perform when compared to the classification of apps within Tor machine learning classifiers independently from the specific advanced organization so independently from the fact that they are used as a standard classifier or in multi classification or hierarchical structure suffer from a limitation they are based on several features that are extracted by human users and are based on a time consuming process this official extraction process that is unsuited to automation and so it is unable to keep the pace of the rapid evolution of mobile traffic for this reason I have proposed the utilization of deep learning classifiers for mobile and encrypted traffic classification mobile deep learning classifiers indeed are directly trained from input data and allows to automatically extract hierarchical features thus effectively being able to follow the dynamicity of mobile traffic however the advantages of deep learning should not be taken for granted indeed to design a deep learning system that is effectively able to perform mobile traffic classification and number of design milestones should be considered first of all the traffic segmentation identifies the traffic object that should be considered and from which input data should be extracted input data selection is also of paramount importance since the number and types of input significantly influences the choice of deep learning architecture moreover the types of input data selected should be indevented from the specific training and evaluation context for example they should not contain information like source port source IP addresses MAC addresses context metadata in order to avoid biased performance then the deep learning architecture is strongly influenced by this choice since it can have one or more different types of inputs that are also referring to this number of modalities and also it can be in charge to solve one or more tasks in this case we talk about single task deep learning architecture or multitask deep learning deep learning classifiers moreover each deep learning classifier is composed by a number of elementary learning layers whose common choices are reported in the left part of the slide using this design framework I propose a multimodal deep learning based mobile traffic classifier that is a multimodal so it is two different types of input to exploit the heterogeneity that is intrinsic in mobile traffic indeed these two types of input are the first byte of the transport layer payload and informative fields of the first of the first packets other than defining the specific architecture of the I have also proposed an advanced training procedure that is based on two different parts the first phase is a pre-training phase in which the two single modalities branches are trained separately without considering the shared representation layers shown in pink in slide then a successive fine tuning phase trains mimetic as a whole so considering also the shared representation layer but freezing the low layers that are related to the extraction of intra modality features and so they are not further trained in this fine tuning in this second training phase using mimetic I have performed a comparison of it with a number of machine learning and deep learning baselines that have been previously studied and implemented specifically the machine learning baseline is a random forest used for mobile traffic classification while the deep learning baseline is a single model one dimensional CNN The results showed F measures obtained when varying a censoring threshold that has been used to censor the classifications having a confidence less than a given threshold value We can notice that for all the three data sets considered mimetic is able to outperform both the baseline over hold confidence interval obtaining up to 8.6 F measure improvement moreover when compared with the single model deep learning baselines in terms of training time for each epoch mimetic is obtained a faster training time more than three times than its single model deep learning competitor however the problem of higher training time of deep learning architecture is a general problem that is independent from the fact that the architecture is multimodal single modal multitask or single task so in order to face this issue I have proposed the training of deep learning architecture considering the parallelization abilities of big data platforms specifically I have used a cloud based implementation of the big data platforms but this parallelization is not transparent so a number of trade-offs should be taken into account in order to analyze this combination of these two factors these trade-offs have been evaluated considering three different dimensions the classification performance in terms of F-measure the training completion time comparing a centralized with a distributed deployment and finally the cost needed to deploy the big data architecture on the Azure cloud a training process of a deep learning architecture of big data is performed using a number of cooperating worker worker nodes that performs the data parallelization and are coordinated by a single master node specifically I have considered a number of working nodes of 2, 4, 8, and 16 moreover the nodes and master communicate using a communication protocol that governs the exchange of commits and pulls in this case I have considered an asynchronous communication protocol the update frequency at which the worker and master communicates is also interesting and a strict coupling consists in an update for each mini batch from the worker to the master while on the other end a more loose coupling is related to only one commits for each worker finally the architecture as a whole is optimized using an asynchronous distributed version of the stochastic gradient descent algorithm it is interesting to show how the number of workers impacts the classification performance on big data in terms of training completion time cloud deployment cost and F-measure first of all it can be shown that when using a higher number of workers the training time decreases significantly for example considering a 1D CNN on Facebook Facebook Messenger the training time with 16 workers is more than 90% lower than the centralized case however this diminution in training time usually is not balanced in a diminution of the monetary cost needed to deploy big data on cloud indeed it can be seen that for a higher number of nodes there is a little greater difference between the time obtained and this line that represents the ideal value corresponding to a perfect parallelization since the cost depends on both the training time and number of workers deployed when there is a significant difference and so a diminution in training time of only 2% in this case this corresponds to an increase in monetary cost when passing from 8 to 16 workers of more than 50% so in this case a diminution of the training time is not balanced by a fewer cost finally considering the classification effectiveness in terms of F-measure it can be noticed that when passing from a centralizer to a distributed deployment there is a decrease in classification performance with up to an F-measure that is the 50% fewer with 16 workers when compared to the case of one worker this outcome confirms that the deep learning training stage is a not naturally parallelizable task does it has worse classification since each worker does not have visibility on the problem as a whole but only on a portion of it in conclusion I've shown that mobile and encrypted traffic classification plays a role of paramount importance in network management of current and future networks however the effectiveness of traditional methods is hampered in these dynamic and challenging scenarios for this reason the thesis has proposed implemented and evaluated an extensive set of novel methodologies that advances the state of the art considering both advanced machine learning classifiers but also the utilization of deep learning architecture for mobile and encrypted traffic classification also dissecting the trade-offs of their deployment on big data cloud platforms these are the products I have published six journal papers regarding these topics and six conference papers thanks a lot for your attention if you have any question I am welcome to answer them ok grazie mille per la presentazione per l'argomento molto attuale e interessante io ho una domanda tecnica su se può riprendere la presentazione e tornare alla slide quella della rete bayesiana che era verso se ricordo bene la metà della presentazione questa sì questa qui allora diciamo che io qui mi chiedevo diciamo la modalità con cui diciamo viene costruita in questo caso la la cpt la tabella di probabilità condizionale perché diciamo vedo diciamo degli archi non orientati però voglio dire l'orientamento è abbastanza intuitivo mentre per quanto riguarda le probabilità condizionali volevo avere qualche informazione in più sì diciamo che questo grafico è un grafico diciamo di alto livello che tende a mostrare le prestazioni ottenute da ogni nodo della 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 gerarchia ottimizzato con un differente classificatore diciamo principalmente noi qui per fare l'ottimizzazione abbiamo utilizzato delle tecniche via via crescenti in primo luogo un'ottimizzazione semplice che è stata fatta è considerare un unico classificatore in particolar modo quello che aveva le migliori prestazioni in questo caso il random forest su tutta la gerarchia fissando il numero di feature poi abbiamo fatto in questo caso non è un'ottimizzazione completa in quanto l'ottimizzazione è stata fatta considerando degli ottimi locali quindi le migliori prestazioni ottenibili a ciascun livello della della gerarchia variando sia il classificatore per ogni nodo sia variando il numero ed il tipo di feature per ogni nodo e quindi praticamente siamo riusciti ad ottenere in questo caso qui che per ogni nodo della della gerarchia le prestazioni migliori ottenibili sono con i classificatori mostrati in questa slide in particolar modo è interessante mostrare che il random forest è il classificatore che ottiene le migliori prestazioni sia per classificare a livello 1 che sarebbe il livello più semplice di classificazione in quanto ha solamente tre classi diverse ma anche a livello più basso in cui va a classificare fino ad otto classi differenti i classificatori che sono stati considerati non sono chiaramente solamente random forest e le reti baesiane ma anche abbiamo considerato dei multinomi semplici e diverse combinazioni dei loro parametri ok va bene allora stavo dando uno sguardo adesso alla valutazione che lei va ben consapevole delle valutazioni ottenute dai revisori esterni e in particolare la valutazione di Donnet il quale ha espresso delle perplessità che però mi sembrano abbastanza opinabili sul numero di pubblicazioni ma diciamo più che altro io se lei può sintetizzare diciamo delle perplessità del revisore le risposte ecco ad esempio sul numero elevato di pubblicazioni a che cosa qual è stato il suo contributo e come mai questo contributo è stato diviso su un numero elevato di pubblicazioni che ovviamente non lo considero assolutamente un fatto negativo anzi e poi tra le altre cose che vedo qui come osservazioni il revisore voleva qualche informazione su i lavori qualche connessione sul futuro della sua ricerca quindi futuri lavori che lei pensa siano appropriati per portare avanti questo filone di ricerca ok rispondo la prima domanda diciamo l'ho risposta anche nella versione revisionata in cui ho aggiunto chiaramente che per i diversi per i prodotti mostrati qui ogni autore ha contributo in maniera uguale al contributo questa cosa non era specificata nella prima versione inoltre il numero elevato di pubblicazioni può dipendere anche dal fatto ad esempio delle pubblicazioni che sono state già pubblicate nel 2017 al fatto che questo lavoro comunque è iniziato un anno prima in quanto abbiamo iniziato a lavorare su queste cose già prima e quindi chiaramente il frutto è stato chiaramente raccolto in maniera uniforme poi per i tre anni successivi quindi chiaramente ogni pubblicazione tratta uno specifico argomento che poi chiaramente sono gli argomenti che corrispondono alle metodologie che ho mostrato in questa presentazione e generalmente dei risultati preliminari sono stati mostrati sotto forma di pubblicazione a conferenza mentre poi successivamente facendo investigazioni più approfondite siamo arrivati a pubblicare su rivista ecco quindi questo riguardo la prima cosa a cui comunque avevo anche già disposto al commento nel manoscritto riguardo la seconda domanda del revisore per quanto riguarda gli sviluppi futuri ho applicato nella tesi questa cosa in primo luogo una cosa che ho anche evidenziato nella presentazione il fatto che sarà molto interessante valutare come queste diverse metodologie possono essere combinate in un framework più vasto quindi valutando il loro impatto combinato che chiaramente queste varie metodologie sono già altamente innovative di per sé valutare il loro impatto combinato sia un task particolarmente challenging sia ovviamente un ulteriore passo in avanti rispetto allo stato dell'arte sulla classificazione in secondo luogo altre cose che abbiamo in mente di fare è utilizzare approcci di deep learning più avanzati come avete visto in questo caso poi oggi ho proposto un approccio multimodale che è la prima volta che è stato utilizzato in letteratura ma ad esempio non ho ancora esplorato la possibilità o meglio la stiamo esplorando ora di utilizzare degli approcci multitasco quindi diciamo che complessivamente possono andare ad avere più problemi di classificazione che si vanno ad affrontare contemporaneamente perfetto grazie io la interrompo scusi perché mi si darò un po' diciamo avanti con i tempi chiedo agli altri membri della commissione se hanno altre domande no per me va bene va bene anche per me ok grazie mille allora grazie grazie mille per la presentazione passerei avanti all'altro candidato che è Mario Selvaggio buongiorno mi vedete? io ancora no ecco ora si e può cominciare a condividere lo schermo ok io vedo bene per me può cominciare sì anche per me ok good morning everybody I'm Mario Selvaggio and today I will present the work behind my PhD thesis entitled shared control telerobotic methods for industrial and surgical robotic systems so first a little bit of background regarding myself I graduated in mechanical engineering from University of Naples Federico II in 2015 then I worked with Prisma Lab and Icarus Center during my PhD these are some of the institutions with which I collaborated during my PhD and my supervisor is professor Bruno Siciliani during my PhD I spent three periods abroad complessively I spent three months at CNRS Edisa Indriaren in France and a longer period of six months at University of California Santa Barbara in 2019 so a little bit of background of my thesis so to date full robot autonomy has been realized only by limited and structured settings we can see here a video of robots actually operating in automotive industry but if full robot autonomy still lacks the robustness to safely operate in unstructured or unknown environments here there is a video from DARPA Robotic Challenge in 2016 you can see the robot failed to operate safely in these unstructured or unknown environments unfortunately this is the case also of hazardous environments or dangerous or even safety critical environments so there are cases in which failures are not tolerated at all so human operators is a common thought that human operators here can provide the necessary decision-making and seen understanding capabilities for robot to operate safely in those environments so human robot interaction strategies are classified as proximal as the robot and human operate in the same environment otherwise they are classified as remote when robot and human are physically separated by environmental barriers so when we talk about remote interaction we usually refer to this as telerobotics this is the field of robotics that deals with remote interaction with robotic system so basically the robotic system is composed by a master interface so then a slave robot and a communication channel so at the master side usually there is a human operator operating a robot a machine that is sending commands to the slave side through the communication channel the slave side is composed of the robot itself and the environment in which it has to accomplish the task and the slave side is sending back some feedback to the human operator so usually when you want to accomplish a difficult task in a remote environment the user need to operate a complex remote robot so for example here in the picture you can see a robot having many degrees of freedom in this context shared controlled telerobotic system are those in which a human operator can trade actually the control of a complex robotic system with an autonomous controller to achieve a common goal here you can see that there is a loop on the slave side that is accounting for a local autonomy so this local autonomy is supposed to help the operator in more precise and more efficiently accomplish the task so the goal of this thesis was to develop intuitive efficient and safe shared control telerobotic architecture for the operator to accomplish tasks in non-trivial environments so the motivation is the need of lowering down the physical and cognitive workload of the operator when it is in control of a telerobotic system the approach that was followed is the development comprises the development of autonomous sensor based control to provide autonomy at the slave side the use of haptic guidance methods to give the operator relevant information about the task and the system and use of passivity based control to guarantee a safe behavior of the telerobotic system so in part one of the thesis I dealt with the share control architecture for industrial application this is the collaboration with IRISA in France so the first work is about share control for dual arm systems so here the motivation is to reduce the human operator cognitive and physical workload during certain segregation of nuclear waste this is a remote application because here the nuclear environment impose environmental barriers so it's a task that can be accomplished only from the remote side so the problem is to design effective share control architecture for a dual arm robotic system so here you can see in the picture there is a robotic system comprising two arms operating in an environment in which there are several objects and the robots are embedded with some sensors for example cameras to track objects in the scene and goal is to teleoperate such a complex robotic system with a simple master device having only six degrees of freedom so regarding the features of this architecture the first feature is about an autonomous vision based orientation control you can see in the video that actually the robot is teleoperated to move around the sphere centered in the object and this is supposed to help the operator in reaching and accomplish a grasping task of an object so the operator in the meanwhile has control over the remaining direction of the task so it has the control over he felt of having control over a sphere centered in the object also another feature that was implemented in this in this shear control framework was collision avoidance by active control having two manipulators working together in the same environment is dangerous because they can actually collide so in this case we wanted to implement some autonomy that was able to prevent collision between the two manipulators so the teleoperated one on the right and the autonomous one on the left so this was done just by discretizing the shapes of the manipulator with several spheres and actually evaluating all the interdistances between the links of the manipulator and calculating an input velocity field for the manipulator to actively avoid collisions also some optic guidance was used to inform the operator about constraints you can see in the video here when you approach joint limitation for example you want that the operator feels that the robot is actually going towards a constraint so how this was done is to actually devise a cost function that was then used whose gradient actually was used to provide information to the operator through this force displayed on the optic device so basically devising optic cues like this tells the operator where to move in order to avoid constraints also to keep the system safe it's important to perform a passivity analysis of the system and we actually perform about this work a passivity analysis through portemiltonian modeling that is a way to describe a nonlinear system in which is inherently passive so basically you can demonstrate that there is a storage function that whose time derivative is less than the input times the output as a result of this work we perform a human subject study and we with 15 subjects and we analyze the results through the ANOVA so the factors we considered were three actually we consider the human involvement the pure teleportation versus shared control the presence or not of active guidance and the presence or not of the reactive behavior the metrics that we consider are collisions between the manipulator the completion time linear trajectory and perceived effectiveness so you can see here in the graphs we have that going from left to right on the abscissa you have the system having more features you can see that collisions show this trend in which when the reactive behavior is present actually collisions were totally avoided completion time also as the linear trajectory also show a decrease in going from pure teleoperation to the system with embedding all the features at the same time the perceived effectiveness of the operator was increased having more features in the system with the same motivation in mind actually the same willing of reducing the operator workload during sort of segregation nuclear waste we also looked at this other problem how to guarantee a safe behavior while accomplishing multiple tasks at same time with redundant system so basically having an haptic device that has less degrees of freedom of the robot that you want to control so this allows the robot actually to be redundant with respect to the task to be performing so this degree of redundancy can be autonomously exploited to accomplish multiple tasks simultaneously so regarding the shared control architecture feature that we talked about here we firstly split the control input that in this case is the velocity on the manipulator in two terms so there is an autonomous term and the user specified term so the autonomous term specifically is designed to have a hierarchical task execution you can see at bottom of the slide some relevant quantity so basically we have a function describing the task then you have the mapping from joint space to the task space and we have this matrix P that is called the null space projector that actually is actually realizing this hierarchy between the tasks also we devised this coupling method between the master and the slave so basically the velocity at master is sent to the slave to this mapping C that is accounting also at which level of priority you want the user to input these commands and also the generalized force at master side are always calculated based on the gradient of a given cost function to tell the operator where to move in order to avoid constraints performing a passivity analysis with this system we consider this storage function comprising three terms one is the kinetic energy of the master device the other one is the potential energy stored in the constraints and also the task errors so the goal is to show that v dot so the time derivative of this storage function is less than the input times the output in this case our velocity of master and four generalized force on the master side so performing this time derivative we see that the term comprising input times output appears and also two positive definite terms appears in the time derivative but unfortunately there is a term that is not defined in sign so in theory this is problematic because in theory v dot can grow and can grow unbounded so this tells us that the system may be unstable so to solve this problem we like devising strategy based on the energy tanks facility based control approach so this consists in adding an additional term to the storage function that is this T so then devising dynamics for this additional status of the system that accounts also for the W I that is that term that is not defined inside the storage function time derivative and also we actually act on the autonomous input through this alpha variable that is a control variable that is devised based on the energy that you have actually in the system at a certain time so you can see in the bottom graphs in the first on the bottom left you can see that the system when it evolves can undergo an active time period in which the energy actually grows and for what I was saying before this theoretically can grow unbounded so in the second case with the energy tank we have the total energy in the system is always decreasing of course this comes at a price so as you can see in the two other graphs in one case with no energy tank we have all the errors converging to zero while in the energy tank approach the errors do not converge to zero this is because mainly the control variable acts on the system dynamically stopping the tasks that are driving the system towards higher energies but this is not a problem for us because we have the human in the loop and so the human can actually counteract to this error inside the system and you can see in the video here that is actually able to perform a grasping task with the six degrees of freedom manipulator only using two degrees of freedom at the same time two autonomous tasks were active on the slave side so also an alignment with the object was performed in a completely autonomous way so here for what we have said before the operator was able also to fill the forces accounting for joint limits and singularities that are considered as constraints on the slave side so in this case passivity was preserved during the task execution thanks to the developed methods moving to part two of this thesis in part two I dealt with shared control architecture for surgical applications so basically here the motivation is little bit different because we wanted methods that enhance the precision and reduce the operator workload during surgical tasks so the first problem we addressed in this scenario was the use of passive virtual fixture generation and adaptation architectures so what are virtual fixers virtual fixers basically are software generated constraints that help the operator of a telerobotic system to accomplish a task more precisely so basically a virtual fixture is defined through its geometry and the constraint enforcement method you can see here in the picture actually this path can be considered as the virtual fixture's geometry and the constraint enforcement method consists in a force that is pulling the tip of the end effector of the robot towards the design path unfortunately the problem with these virtual fixture methods is that they are highly inflexible to be used in a structured environment like the one you encounter in surgical applications so we devised a shared control architecture having these features so first we wanted the method to interactively generate these virtual fixers through the use of interaction points recorded by a surgeon or through vision based techniques so you can see in the video that the operator was able to generate a virtual fixture geometry and then use it for his task so another feature of the system was the interactive adaptation so once you have decided that that geometry is actually good for your task you may want that the virtual fixture autonomously let's say adapt itself to the task currently being executed so you can see in the video that you perform three tasks in three physically separated areas and the virtual fixture was able to automatically adapt to the task being executed also in this case having an aptid guidance actually having a virtual fixture guarantees you that you have haptic guidance for the surgeon and that helps to perform a task more precisely but unfortunately for what we have said so this interactive generation and also this adaptation technique results in a variable impedance system so again we want to guarantee safety in the system and we again exploit the energy tank facility based control approach so in this case the terms are a little bit different we always add an additional term to the storage function here the dynamics of this additional state is defined like this so we have the term that is not defined inside the time derivative of the storage function that comprises the time derivative of the stiffness rendered to the user so in this case we have a control variable alpha that is able to activate or deactivate the increase or the degrees of the stiffness variation so you can see here a plot of stiffness tracking in which in red dash the dashed line is about the desired stiffness that the operator wants in the system while the blue line is the actual stiffness and you can see in the zoom that sometimes it can happen that due to the current status of the system it's not possible to implement that stiffness variation so that alpha variable is actually stopping the increase of stiffness in the system also with a little bit different motivation in the field of surgical robotics we wanted the method the shared control method that actually was able to reduce the operator end-off movements during the suturing task as you can see in the video here while performing suturing with the surgical robot the operator has to pass the needle from one end to another several times to actually reorient needle this is of course time consuming and can be also dangerous for for an even operation so the problem here we address is the optimal grasping of the needle in order to avoid post grasping constraints because actually these end-off movements are needed because actually there are joint limits or singularities on the robot structure that actually limit the movements of the robot so little bit of system description basically we have a robot inside the surgical environment and we have the needle placed somewhere in the environment and we have a suturing path that is a path through which we want to deliver the tip of the needle to accomplish our suturing task and the goal of this work was to actually calculate the optimal FG that is the grasping frame on the needle geometry in order to avoid post-grasping constraints so needle grasping optimization is used to avoid constraints along the suturing path for this we parametrize the grasping of the needle through several variables you can see here two parameters actually we consider the angle around the needle tangent and also the curvilinear abscissa along the needle geometry so as constraints on the suturing path we consider again joint limits and singularities of the robot and here the cost function so comprised of the two terms so one accounting for joint limits and one accounting for singularities of course to consider the constraints along the whole path we took the integral of this cost function along the suturing path in this case so once we optimized the pose of the grasping we implemented the haptic guidance to suggest to the user the optimal grasping configuration actually force skews are displayed to the operator but the operator is always ultimately in control of the system so you can see here a video of a comparison between the methods this is the not optimized solution in which you can see the robot when it reaches some joint limitation it diverges from the desired part the same way when you reach singularities that are actually causing large joint velocities for small Cartesian displacements so this can be dangerous during an operation so our method calculates actually the optimal needle pose and we use force skews to display the operator which is the optimal way of grasping a needle in order to avoid constraints so we perform the simulation of the optimal solution with the needle that was delivered through the desired path without any error and without encountering any of the considered constraints with the same motivation in mind so one of reducing the end of movements during task execution in surgical robotics we here perform actually dealt with the problem of increasing dexterity of surgical instruments so here we can see a novel instrument that was designed to have this in-end manipulation capabilities so basically this is implemented through two yawes of the instrument that actually can translate relative to each other so this implement this in-end rolling capability of the needle in more details there is a mechanism that is able that when actuated is able to make these two EOs to translate relatively to each other so for this new tool we wanted to develop a shared control strategy because adding another degree of freedom inside the system actually is we wanted the method to reduce the operator workload not to increase it so in this case we thought about autonomously exploit the redundancy included in the system in order to avoid the constraints so and optimize the xeric in this case so you can see in the formulas that you have our control input V that actually comprises two tasks a primary task that is the user specified task so it is the same as the sex degrees of freedom of the standard tool and a secondary task actually that is not influencing the primary task and the choice of the secondary task velocity is devised according to minus the gradient of a cost function accounting for joint limits so to compare the results of this shared control architecture with the standard way of controlling tools we took this dexterity measure that actually is able to compare the dexterity of two different manipulators having different space dimension and equal joint space dimension and this comprises also a weighted Jacobian that is actually accounting already for the constraints on the system so basically these are the results of a comparison of the six degrees of freedom standard manipulator and you can see that during the task execution once you reach joint limits you diverge from the desired path with the modified seven degrees of freedom instrument the least norm solution so without optimization already showed higher dexterity of the system and this is embedded in mechanical prototype of the tool with the null space projection we were able to further optimize the dexterity of the tool having more as you can see here in the comparison this is the results of the trajectory tracking in one case we diverge so this is the case when we touch joint limitations on the structure and these are the results of the joint values and these are instead in the bottom right you can see the dexterity and you can see that in red there is actually the dexterity when the six degrees of freedom tool is used goes to zero once you reach joint limitation while with the least norm solution and also with the optimized solution the dexterity was significantly higher so this concludes my talk I have a list of publication here so these are international journal papers international conference papers also put some awards prizes and scholarships and thanks for your attention ok perfetto grazie mille per essere rientrato nei tempi allora io qualche diciamo mi fa piacere che anche questo lavoro sia molto attuale perché diciamo l'autonomia dei sistemi robotici ormai al di là delle applicazioni mediche che sono sicuramente un po' più di nicchia ma se pensiamo alle automobili a guida assistita diciamo adesso questo feedback aptico su tutte le automobili moderni moderne con il mantenimento di corsia possiamo sperimentarlo anche un po' di persona e quindi diciamo se vogliamo un'applicazione che per certi versi dal punto vista dei gradi di libertà è più semplice però è anche diciamo abbastanza più di massa e critica poi abbiamo il discorso dei collaborative robots che lei non ha nominato esplicitamente diciamo uno dei casi in cui c'è un affiancamento tra persone operai ad esempio nelle fabbriche e robot che quindi pone una serie di problematiche anche di tipo safety perché diciamo questa interazione potrebbe causare ferimenti e altri altri problemi e poi giusto per concludere questa disamina il discorso che oggi si è abbastanza sentito del distanziamento sociale con questo problema che stiamo affrontando per cui un avatar potrebbe sostituirci in un ambiente industriale in modo tale da evitare diciamo contaminazioni e altri rischi quindi diciamo ci sono una serie di applicazioni però entrando adesso io lascio i colleghi della commissione che sono più dentro di me sulle problematiche specifiche magari domande un po' più tecniche però facevo solamente volevo fare seguito ad una osservazione di uno dei suoi revisori esterni a cui lei sicuramente l'ha presa in carico che il professor Sandra Hirsch penso si pronunci diciamo dell'Università di Monaco la quale andava a evidenziare un aspetto che di se vogliamo non completa validazione della della sua affermazione in merito all'efficienza e all'intuitività dell'approccio allora volevo chiederle diciamo di fare un piccolo riassunto di come ha indirizzato questo commento diciamo che il claim nella tese era lo sviluppo di tecnologie di share control che erano intuitive per l'utente però la validazione di questo è stata fatta solo su un solo sistema sul primo lavoro che ho mostrato quindi sul lavoro sul dual quindi l'abbiamo considerato uno studio coinvolgendo vari partecipanti e quindi facendo uno studio diciamo approfondito di qual era l'intuitività del sistema sfortunatamente noi negli altri non siamo riusciti a completarlo questo anche perché ci sono infinite difficoltà quando poi si va ad operare con sistemi reali e diciamo soprattutto con quelli là chirurgici diciamo richiedono uno sforzo non banale però ci stiamo muovendo su questo fronte il goal fondamentale è poi diciamo trasferire questa tecnologia queste metodologie nel mondo reale questo richiederà appunto studi più approfonditi di con persone diciamo che usano il sistema gruppi multidisciplinari in cui immagino c'è anche bisogno di diciamo di personaggi di estrazione non esclusivamente tecnica no? perché si parla di human factor di accettabilità e cose del genere vabbè io per quanto mi riguarda ho finito lascio la parola ai altri colleghi Michele e Giovanni se hanno altre domande sì magari io invece posso attaccarmi subito sul discorso della safety che è l'altro diciamo claim della tesi a me sembra leggendo la tesi anche un po' vedendo la presentazione che sostanzialmente questa si basa sull'assunzione che passività significa safety almeno così c'è un claim da qualche parte nella tesi ora questo a me non è molto chiaro quindi potrebbe lavorare su questo punto perché ad esempio sistemi passivi possono essere unsafe e forse a questo punto ci possiamo anche chiarire su cosa significa formalmente safety nella tesi che non ho trovato una definizione diciamo esplicita per questo forse da lì nasce diciamo la mia perplessità allora diciamo che per quanto riguardava diciamo l'obiettivo della tesi era di dimostrare che comunque i sistemi così progettati quindi aventi input autonomi quindi da un controllore autonomo e input dall'essere umano erano comunque sistemi che non esibivano un comportamento che poi portava diciamo a situazioni di instabilità cioè quindi diciamo safety era intesa come diciamo comportamento diciamo non instabile mettiamola così ma questo è davvero una nozione di safety questa per me è una nozione di stabilità non so se concorda cioè io essere e violare dei sì però diciamo avendo l'uomo nel lupo che comunque riceve delle forze associate allo stato del sistema ovviamente se lo stato del sistema diverge anche l'uomo che è in contatto con dal lato master con il sistema robotico potrebbe ricevere delle forze che non sono proprio appropriate per la sua sicurezza quindi diciamo la safety era intesa così perché comunque ci sta un feedback che arriva dallo slave che è calcolato sulla base dello stato del sistema quindi fare in modo che lo stato al sistema slave non diverga fa in modo che anche questo feedback dato all'operatore non sia grande in modo tale da poterlo diciamo mettere in situazione di non si diciamo concordo su questo nel senso che stabilità è una condizione necessaria per safety non concordo sul discorso che la stabilità è sufficiente per la safety secondo me almeno che non mi sia perso qualcosa però vabbè poi questo richiede anche un altro tipo di discussione più ampia l'ultima curiosità sul discorso della stabilità quindi che abbiamo accennato è molto carino il discorso di definire delle condizioni operative se siamo vicini o lontani dal target però che succede se ci sono degli switching ovvero siamo lontani o avvicini dal target quei risultati valgono ancora? Sì diciamo non l'ho esplicemente detto nella presentazione ma nella tesi ci sono dei criteri comunque per scegliere per esempio quel parametro alfa che controllava in un certo qual modo l'esecuzione del task che si stava eseguendo diciamo scegliendo dei parametri che variano in maniera abbastanza smooth diciamo tutto il comportamento del sistema rimane smooth questo non l'ho messo nella presentazione ma si può vedere nella tesi rimane smooth rimane stabile? No rimane smooth nel senso che non ci sono switch che avvengono nel sistema e questo implica ribestabilità? No questo implica che il fatto che diciamo noi dimostriamo la stabilità del sistema in una condizione non essendoci switch è valida in tutto il range di applicazione non so se mi sono spiegato sì ho capito non essendoci switch diciamo la dimostrazione è valida non mi torna molto però va bene da analizzare forse con più calma non ci sono switch e quindi potrebbe essere ok va bene ok grazie è interessante secondo me l'ultimissima curiosità visto che ha parlato di ambienti remoti environment remoti poi però si assume un communication channel sostanzialmente senza ritardi sì giusto quindi questa è un'assunzione giustificata dalle applicazioni a quale applicazioni pensava? allora per esempio nell'applicazione di robotica chirurgica è un'applicazione remota però diciamo sia il master che lo slave si trovano di solito nello stesso environment quindi diciamo il delay nel communication channel è quasi cioè è trascurabile in quel caso quindi diciamo per questo caso qua almeno non abbiamo considerato il delay cosa diversa è nelle applicazioni diciamo veramente remote mettiamo una cosa in cui c'è un delay significativo questo non è stato affrontato nella tesi perché diciamo è tutto un altro filone di ricerca che studia il sistema di unità ok grazie per me va bene grazie ok perfetto allora se non ci sono altre domande io la ringrazio per la presentazione io avevo una domanda molto generale ma ah prego prego Michele diciamo anche per i problemi di tempo direi che era una domanda molto generica ah no ma falla pure tanto voglio dire adesso non sono pochi minuti mi andavo mi andavo a inserire nello stesso praticamente nel discorso che è stato fatto all'inizio per quanto riguarda diciamo la readiness di questi studi la mia domanda è molto semplice lei ha mostrato appunto diversi approcci a diversi problemi e appunto al primo nel primo caso ha detto siamo già arrivati ad una situazione di applicabilità negli altri casi no la mia domanda da un lato è un po' articolata ma può rispondere abbastanza rapidamente quali sono gli step che è necessario fare per arrivare a il prodotto che compie quelle azioni cioè mi spiego lei introduce lei risolve questi sistemi di equazioni dopodiché ha immagino un software che le simula i movimenti del macchinario dopodiché ci sarà la fase di interazione uomo simulatore e dopodiché si arriva la macchina quali sono questi stadi e a che punto siete nei tre differenti diciamo soggetti di studio insomma allora da un punto di vista puramente di ricerca siamo arrivati in quasi tutti i lavori presentati a fare esperimenti in reale ovviamente esperimenti in reale qui significa che li abbiamo fatti noi e quindi diciamo persone che comunque sono familiari più che altro con il sistema cosa diversa è diciamo portare questa tecnologia nel mondo reale perché come faceva prima l'esempio il presidente che parlava di macchine a guida autonoma che già implementano per esempio metodologie attiche per dire all'operatore cosa sta accadendo all'interno del sistema autonomo diciamo questo richiede degli step ulteriori sicuramente quindi prima di tutto va testata l'affidabilità del sistema va testata diciamo anche i fattori umani poi del sistema sviluppato come un uomo interagisce con i sistemi semi autonomi e penso che poi c'è bisogno di anche certificazione del sistema una volta che lo si vuole portare in applicazioni reali ok ok grazie di nuovo diciamo vedo che diciamo la semi autonomia sta vincendo sull'autonomia totale nel breve periodo perché c'è in qualche modo la safety che è garantita dal dal supporto umano su cui si fa sempre affidamento almeno diciamo nell'applicazione attuale ok allora io passerei al successivo candidato grazie mille allora nell'ordine proseguendo nell'ordine abbiamo Roberto Tricarico grazie mille two atoms. That's the title of my research activity, of my thesis. It's quite a general title. I will try to explain you step by step what I mean with that. So before that, just general information. I graduated here in electronic engineering. Then I joined the information technology PhD program under the tutorship of Professor Carlo Forestier. And then I spent the third year of my PhD at the Institute of Photonic Science in Barcelona in the theoretical quantum nanophotonics group with Professor Derek Cheng. So light matter interaction in open system. We are discussing about the property of the interaction, of course, between light and matter. But at which scale? We are referring to nanoscopy scale, nanometer scale, atomic scale. So our matter can be nanoparticles, dielectric, plasma nanoparticles, atomic ensembles, quite a general point of view. Why open system? Open system can mean many things. In general, it's something that exchanges, for example, heat, matter, energy with the surrounding. In my case, since I studied scattering theory, for me, an open system is something that loses energy to infinity because of radiation to infinity. So we have a shining laser, there's a scatter, can be an ensemble of nanoparticles, that can be an ensemble of atoms, and then there is a detector on the other side. And there is some energy that is lost. Why from the theoretical perspective, from the theoretical point of view, it's very interesting to study in this scenario because most of the techniques have been developed and are very stable in the closed system. one, so in closed system scenario in which the energy is confined, are less stable in the open system case. But the open system case is very interesting from the fundamental physics point of view, from the mathematical point of view, but especially from the engineering and from the application point of view because it corresponds to any realistic scenario. So let's start a bit to understand what I mean by closed open system. In the atom case, a closed system in first approximation can be considered the cavity QED set up, for example, in which I take the atoms and I confine the atoms inside an optical cavity. So basically, the light is confined. Of course, the cavity has some losses, but in the first approximation I can consider the light confined. And I can model the electromagnetic part with the finite number of modes, the modes of the cavity. A different scenario is when we deal scattering in through space. So we have a cloud of atoms in through space, shining laser detector, and energy that goes away in uncollectible direction. But the closed system doesn't necessarily need to be closed in the usual sense, so it doesn't necessarily need to have some walls. For example, when we have the scattering by nanoparticles, if the dimension of the nanoparticle or a nanostructure in general is way smaller than the incident wavelength, we call the system collapse in a quasi-static scenario. So where something is happening but the energy doesn't go away, it stays confined close to the nanoparticle. What happens when we increase on the other side the dimension of the nanoparticle, this object starts to radiate infinity. And so we pass from the quasi-static cleaning to the full-retarded regime, which is an open system scenario, by changing the ratio between the dimension of the nanoparticle and the incident wavelength. So another thing we have understood that we want to study what we want to study, basically my thesis is about three selected topics in this very broad context. In particular, I studied two topics on nanoparticles and the topic on atom theory. The first two were developed here in Naples with the under- supervision of Professor Carlo Forestier and Giovanni Miano, and the one in Barcelona under- supervision of Professor Derek Cenk, who was of course who advised the thesis. So let's start with the first one. I will try of course to give you the main idea of these three topics, highlighting general features and give you perspective my contribution about it. So material independent modes for the electromagnetic scattering. We have a nanoparticle, in this case a single nanoparticle, but we can have more nanoparticles discovered together, confined in a certain region of the space, and I have an instant field shining with the nanoparticle and then a scattered field to compute. The scattering problem can be written this way, so we have an M-MOS equation and a driving term, plus we have tangential component, the radiation at infinity. So basically the idea is that what we don't want to do, we don't want to solve the problem directly. So we don't want to do something like give me the instant field, I give you the scattering field. We want to do some physics, so we want to really understand what are the general features of this object, we want to do a modal theory. Why a modal theory? A modal theory provides a rigorous understanding of interference patterns of resonances, and it's also very important from the engineering point of view because it is extremely helpful in the design, so in the synthesis problem. So we can, for example, state a priori what's the best material to reach this particular scattering response, wherever, without solving hundreds of thousands of direct problems. So to let you, to give you the idea, we can consider this very easy linear algebra analogy problem. We have a matrix plus a constant and the beta, and we have b, which is a known term, and the matrix is self-adjoined. So basically a direct solution would simply mean let's invert this matrix. A modal solution means, okay, let's study the eigenvalue problem, and then let's span the space in terms of the eigenvalues, in the end of the eigenvectors, and then let's provide the former solution of the of the x in terms of these eigenvectors, eigenvalues. Why I really care about this model solution? Because we can learn a lot from it. For example, let's look at this denominator, beta minus lambda n. So what it's telling us? It's telling that if beta is very close to this particular eigenvalue lambda, basically the response, the solution, it's dominated by this eigenvector Cn. This is something you cannot see from direct solution. Now I want to do the exactly the same thing for the scattering problem. I get rid of the material part of the driving terms, and I write this eigenvalue problem for the Laplacian with particular boundary condition and condition to infinity. So of course, this problem depends on omega, which is the domain, so on the shape of the object on the geometry, depends on the frequency because we say we see k naught here, but it's material independent. So what it means? It means that it will give us some eigenmodes and eigenpensivities that doesn't depend on the material constituting the object, but just on the frequency and geometry. Why is it so interesting? Because it can give us this expression, this is a model solution of the problem, where the role of the geometry and the role of the material are completely separated. If someone who has studied scattering theory, you would remember that most of the solution of the scattering, it's very hard to distinguish what's the role of the geometry of the material. The material is buried inside some special functions, wherever. While in this case, it's very clear. So in this basis, in this representation of the scattering field, we have the geometry that dictates the possible scattering patterns, that dictates the basis, so the CN, and we have the material that's only in the coefficients, and weight how much of each pattern, how much of the scattering we have in the solution, we have in the scattering. Starting from this formula, we have studied a lot of different situations, a lot of different scenarios. This thing what someone can do is to define a resonance condition, for example, that we call material resonance, which basically is, we have to minimize this denominator. Why? Because for the same reason I told you before, when epsilon r approaches gamma n, this term n, CN, will dominate the scattering response. So this is a way to study resonances. There are several ways. This is a way in which we, in this system of basis, we want to separate geometry and material. independent modes. But let's look in the eyes of these material independent modes. So basically, some of them have some arrows that exit from one point and enter to another point, like this one, or this one, or this other one. Others have vortices. So this is a single sphere, I'm doing a section of the sphere, I'm showing the electric field. So it's natural to divide these modes into classes. One of them that have this source sync behavior, in which I have field lines that exit one point and enter another. Another one that is characterized by vortices from the field line point of view. And I call the first modes photonics, or plasmonic modes, and the latter photonic modes. So let's go deeper into this talk. So let's do an example. Plasmonic modes, the first plasmonic mode is this dipole, famous dipole mode. So basically, if we define the sites parameter as the ratio between the radius of the sphere and the instant wavelength, so what is important is not a particular wavelength we are working at or the dimension, but it's the ratio between the dimension of the non-structure and the wavelength. And basically, what do we get? We can vary, so we can vary the frequency, or we can vary the dimension, and we can plot the locus spanned in the complex plane by this eigenvalue. What we learn from this plot? We learned that this plot is in the third quadrant. So what does it mean? It means that it can be, this resonance condition can be matched by a plasmonic material. A plasmonic material is a material that has a negative real part of the epsilon. So we can wish to have a plasmonic, this kind of resonance in a plasmonic material, and this is what happens in reality. On the other side, we can do the same thing with the other class of modes. So we plot the other mode, and then we plot the locus, and we learned that in this case, the plot is in the fourth quadrant. So basically, these other classes of modes, of course, I'm showing some very easy examples, it's in the fourth quadrant. So this resonance condition can be matched only by the electrics. Starting from this idea, you can develop many things, and we have developed many things during this year, about two destructions, quasi-1 nanorebus, arbitrary-shaped domain. The second point about nanoparticles they have developed here, it's more related to the quantum world, and basically it's a quantum theory for frequency shift and radiative decay rate. So we'll try to explain you step by step. It is about plasmonics. So plasmonics is the science of the studies, the response of metal nanoparticles, of particles that in general show a negative real part of of the EPS. In general, the plasmons are also in other systems, more in another kind of system. But this is, let's take this as a definition. So this is about quantum plasmonics. Let's first say why. I will give you this statement. It's quite general, maybe a bit loose, but it's a starting point. So in many of new applications in quantum technology, there is the need of reaching an efficient atom photon interaction. So in many applications, photon gates, non-classical state of light, whatever, we need the atom to talk with photon efficiently. What's the problem? The problem is that atoms don't like to talk with light so much. And we can take this very easy example. So if we have a cylindrical beam of width d, and we call sigma the scattering cross-section of the atom, the probability of interaction is given by sigma over d squared. That because of the fractions limit is way smaller than one. So what can do, why people start you to study this plasmon quantization, this plasmonic, to use plasmonic for this kind of interaction? Because plasma non-structure can focus light beyond the diffraction limit. So basically, they can reduce this d in such a way to increase this probability of interaction. Of course, for the experts of plasmonics know that plasmonics have some problems in terms of losses, but this is another story. And I don't want even to talk about the plasmon interaction with the quantum dipole. I wanted to use it just as an example to show you what I'm doing next, which is basically to derive a formal quantization quantum theory for the plasmon nanopathy. That is something that we could need, for example, when we go to really very low intensity regimes, or maybe when we want to study strong coupling. It's not that in many different cases, every time that we want to analyze the quantum nature of the plasmon. So let's start by the closed case. So the closed case is when we have a nanopathy of way smaller than a typical wavelength, the plasmon wavelength. So basically, we can do a very easy model. We can consider the positive charges as a positive background, and then we can define a displacement electron field. And we can write the total energy of the system as the sum of kinetic energy of this displacement electron field plus the Coulomb energy. So where comes the game? So basically, we can expand displacement field into a basis of modes that I call plasmon modes or plasmon fluid modes, because in terms now I'm using this basis to expand the charge motion. So this is a fluid picture. And these plasmon modes are curve-free, divergence-free, and they're normal component different from zero. Of course, you have to develop a code that is able to produce this kind of basis in an arbitrary-shaped domain, or maybe with more connected domain. It's not trivial, but it's something that it's possible. And then, if you use this basis, the Hamiltonian of the system can be written as the sum of independent harmonic oscillator. Each harmonic oscillator corresponds to a particular way of oscillating. In this case, for example, I'm showing the surface charges in the sphere case. This is the dipole, this is the quadruple, this is the octopole, and it has its own frequency, it has its own mass, its own volume. Now that we have this form of independent harmonic oscillator, we can proceed with the standard canonical quantization procedure and define this operator of creation and annihilation of energy. So basically, if we consider these modes in which the charges are oscillating, they basically mean that the charges are doing like that, up and down. And we start from this initial energy configuration, applying the creation operator for the plasmon, I create a quantum of energy. Applying this annihilation operator, I destroy this quantum of energy. So basically, a plasma, what is for us? It's a quasiparticle that accounts for the collective motion of the elections. And in this quasi-static limit, it has an infinite lifetime because it doesn't decay. This is very important because the light is confined, it doesn't go away, and it's a fixed energy. So what happens when I increase the dimension of the nanoparticle? These objects start to radiate energy to infinity. And because of this radiation, it acquires a finite lifetime. So at some point, it will decay, it will lose its energy. And the energy also shift. And from the microscopical point of view, this is modeled with the interaction of the radiative photons. So the full Hamiltonian, in the end, is made not only of this matter part, which accounts only for the fluid motion, but I have to include in the description also the photons. For example, this is a plane wave base, so I create and destroy photons in plane waves. I have to include an interaction term, of course, which you see this interaction term is made of. These nice terms, which are B-dagger A, which basically mean I create a photon plasma every time that I destroy a photon and the other way around. But there are also second-order terms in which I destroy both a plasma and a photon, I create both a plasma and a photon. And how efficient this interaction of course depends on how well these photon modes couples to the radiative modes. And it basically is given by the Fourier transform of the plasma and Fourier modes. So it's written this way, this VQSM. It's like the coupling strength. And then there is another term, this H the second, which is a normalization term that accounts for the changing of the energy to the presence of nanoparticles. I haven't written because it's more complex. So basically, up to now, I've derived this Hamiltonian. Of course, you have to define this proper basis. From the numerical point of view, it's not trivial, but in general, I can say that it's a general procedure. So the main contribution comes now, in which we have studied, in particular, I've studied this approximate plasma-photon interaction. So basically, what have I done? Neglecting this H the second, and considering the mode is independent, is it possible to compute, of course, the so-called lifetime and energy shift? This lifetime and energy shift have a very nice form, because they are the real and imaginary part of this quantity in brackets. And why it's simple? It's very nice, because these are full-retarded quantities. But if we look on what they depend, so what's in bracket, this is basically, this psi, it's a quantity, I will not explain you how to compute it, but I want to point out that this psi only depends on a quasi-static computation. Well, I mean, in this psi only appears quasi-static modes, and how well they couple with the plane waves, they're free of transform. But these modes are obtained by computing a quasi-static problem, so starting from Poisson equation, not from Maxwell's equation. And so if for what I'm saying were true, basically, we found a way to have full-retarded quantity directly from quasi-static one, with the computational costs that do not depend on how far we are from the quasi-static regime. Because when we want to compute full-retarded quantities, we have two chances, either with one model theory using full Maxwell's equation, as I've shown you in the first part, or we can do a quasi-static theory, and then we start to add first-order perturbation, second-order perturbation, third-order perturbation. But at some point, this formula becomes extremely complicated, and their efficiency drops as soon as we go far from the quasi-static regime. While in this case, it seems we have a way to obtain the full-retarded quantity directly from the quasi-static one. Of course, we have to verify if it's true. What I've seen is that if you take the solid dotted line as approximate solution and the solid line as exact solution, well, that's the answer. So basically, they are very extremely close to each other. This is the simulation in the case of a sphere, at least in the case of a sphere. But if we want to understand even more, they are essentially the same for Kp. Kp is the momentum of the plasma. Kpr is smaller than pi, that for real numbers, if we want to go to real application, we are talking about gold nanoparticles of 300 nanometers of diameter, silver nanoparticles of 500 nanometers of diameter. I mean, these nanoparticles are huge. In most of the application, we use way smaller nanoparticles. And so basically, what's the take-home message? The take-home message is that if you want to study the quantum response of a nanoparticle for any kind of reason you would need, basically, you can use this Hamiltonian, a simplified Hamiltonian, which you just include this interaction, this pertence interaction term, you can neglect the second-order term, you can neglect the coupling between the plasma modes, and everything is more useful. But another, for example, of the results I even put in here is that we have proven that you cannot do, for example, rotating wave approximation, that it's super diffused in this field of research. And then we have applied, I've shown you, of course, the basis, but this theory is applied for all that spheroid, for arbitrary shaped domain. It's also suited for dimens and spheres of botanthin and somewhere. There's a document on archive. So the final six, seven minutes, I will talk about this non-linearity of the Rydberg EIT, which is my activity at ICFO. I'll try to let you understand step by step what it means. So let's start by photon-photon interaction. So what's the point? The point is that if you let photon propagate in linear media, they will not interact with each other. So if you let the photon propagates in optical fiber, in free space, they will just propagate without interaction. And this is very good because this is what makes them a good carrier for the information, right? But what about information processing? I mean, if we want to think in a future of quantum technology stuff and we want to do photon gates, we need interaction between photons because processing is, by definition, interaction, right? And so if interaction cannot take place in linear media, we need non-linear medium. But the point is that how can we achieve non-linearities down to the few photon level? That's the big question. And basically, we can use single atoms. I will explain to you why, I'm giving you the idea. So basically, if you take a single atom, okay, an atom is such a complicated structure. But if we tune a proper transition in terms of frequency, in terms of angular momentum, conservation of quantities, basically, we can deal with this as if it were a two-level system, right? So our first photon arrives, it excites the atoms. And when a second photon arrives, basically, this second photon cannot be absorbed. So this is a blockade phenomenon. And if you think about it, this is the most linear thing we can think of. Because basically, it's something that experiences two complete different responses if it is excited by one photon or by two photons. So this is extremely non-linear. But what's the problem? The problem is that we have learned that in real life, this probability of interaction is very small. And so in general, photon will just pass by. So basically, what can we do to increase the probability of interaction with the medium? We can increase the number of atoms, of course, and create a cloud. But what's the issue? The issue is that now photons have more atoms to approach. And so basically, these atoms get excited, and then they excite and emits photons. But the point is that we keep on measuring linear response, and we don't see this intrinsic, so strong non-linearity. Because what's the problem? Even if the atoms are so non-linear, this non-linearity is local in time, local in space and narrow in time. So what it means, is local in space, it's related to the single atom, to the position of the single atom. And narrow in time, it means that the second photo must arrive before that the excited state is decayed. So basically, this is very hard to compute. This is why for years, people haven't found this non-linear response. And this is where Rydberg atoms comes into play. So a Rydberg atom is an atom excited to a very big principle of quantum number level. So it has a huge dipole momentum. And basically, it can provide us this blockade phenomenon, but to a larger scale in a non-local fashion. So what happens? The first photon arrives and excites the atom. Now that this atom is in a Rydberg state, his dipole momentum is so strong that within the blockade sphere, large blockade sphere, all the surrounding levels are shifted to infinity, in such a way that when other photons come in, they cannot be absorbed, because they are decoupled from the transition. And this is a way in which a single photon is enough to saturate the atomic response of an entire portion of the medium. But when I say entire portion, I'm talking about this Rydberg blockade is like micrometers. So it's 10 to the fourth time bigger than an excited state atom. So it's really to see a non-linearity from a micro in a non-local fashion. So now that we are understood, we can be more quantitative on that. We can see that from the classical point of view, there is a non-linear system is something that has a non-linear relation between input and output. This is something. From the quantum point of view, non-linearity, it's a bit more tricky, in the sense that it's related to how the system reacts to one photon or to two photons. In general, when we let classical light or laser light propagate through ensemble, the probability of detection two photons over photons is the same. So we take this quantity, that is normalized G2 is the capital G2 over the intensity, which is basically the correlation function over the intensity, the correlation function over the intensity, and the ratio between the double photon detection and the single photon detection square. For us, a non-linear system is something that is able to suppress the double photon component. So it's something that is able to turn a coherent state of light into anti-bunched state of light. So a medium that is transparent to single photons and absorbing to couples. This is extremely non-linear, because this is a very strong response, different response from one photon and two photons. Okay, now we have the linear path, the non-linear path, we are getting into that. Let's go to the linear path. In general, a two-level medium, it's an absorbing medium, in the sense that if you take this laser shining, then the transmission, well, the transmission has this typical pattern and it's zero-detuning. So when we tune the probe laser exactly in the frequency of the transition, we have that the transmission is attenuated by E to the minus OD. So OD is an optical depth, it's the figure of merit of two-level ensembles. It's given by the product between the probability of interaction and the number of odd. So basically, a two-level medium is extremely absorbing. So we will not use this kind of setup. We will use another setup, a three-level scheme scenario, which is known as EIT. So basically, we have two fields and three levels. The level is a lossy level, this excited state level, and then we have a readback level. So basically, we reach this very high principal quantum numbers through a ladder scheme. So we pass from, we go from the ground state to the excited state, and then we go to the readback state. So what happens? Now we have a probe field. There is the probe field that decides the number of excitations at the medium that excites the atom, and then I have the control field that can redistribute the population between E and R. So basically, what happens? A destructive interference phenomenon takes place in such a way that it's not possible to populate the excited state, and the light goes directly to the readback state. So the outcomes are in the readback state. And this is what it means. Since the excited state is extremely lossy, and it's responsible for the attenuation, for the absorption of the level medium, while the readback states are extremely long-living states over the time scale of the experiment, basically it's zero-detuning, an open transparency window, and a transparency window is open. So basically, the transmission reaches one again with a certain width that depends, of course, on the parameter of the ensemble, so on the decay of the excited states, on the optical depth, on the control field, on the rubber frequency of the control field, and with a particular reduced group velocity. So now that we have readback atoms and DIT, I can explain you shortly the setup I've worked on. And basically, this is a setup to turn classical light into quantum light. So we have exactly this scheme, readback EIT, in which the third level is a readback state, and then we have these two lasers shining, and we get into the system with a coherent field. So in 2012, it was studied from this paper, in which they basically proved that this is a possible setup to turn classical light into quantum light. So I get into the system with a G2 that is equal to 1, and I get out of the system with a G2 that is smaller than 1, that is anti-bunch. So they found that this G2 decreases with OD and increases with omega C. So to have to extend that to have a small G2, it means that the system is very non-linear. We would like to have a high optical depth and a small control field. There are some technological limitations in terms of light focusing, in terms of transversal blockade, in terms of defacing. And so basically, last year, in Professor Yuxley-Marten group at ICFO, the group which we collaborate with, they had this very nice measurement in which they send a light pulse into the medium, and they observed that the G2 is not constant all over the pulse. And in particular, the final edge of the G2, the final end is more anti-bunched than the steady-state value. So basically, it opened some ideas, maybe a new way to create quantum light in such a sense that I will not send classical light in a continuous wave fashion, right, in the steady state. But maybe I do transient analysis and pulses, and I just keep the final end of the pulse, which is more anti-bunched. So basically, my activity was all about modeling this experiment. And you see, this is the input light, this is the G2, and the simple input light, the G2, and of modeling that and trying to understand. The normalized G2 is given by the ratio between the capital G2 and the intensity. So basically, what happens? The capital G2, it's a double excitation quantity, the intensity is a single excitation quantity. So the G2 is related to photon couples, the intensity is to single photons. So if we take the quantum, atomic quantum state, it can be written as the ground state plus single excitation component on the single excitation manifold, and then the double excitation component. So basically, in the single excitation one, I can have a population in the excited states or in the readback states. In the double excitation component, I can have two in the excited states, one in the readback, one in the excited, but I cannot have a readback or readback because of the blockade mechanism. So what have we done? We have plotted this very easy level scheme in which we have the ground and the excited states and the readback states and wherever. So since the G2 depends on two quantities, which is capital G2 and intensity, but the capital G2 only depends on the double excitation subspace. So on photon couples, the intensity only on single photons. So the photons couples are here, the single photons are here, and we find that these two subspaces are linked just by the probe, just by the probe field. So basically, we find this interesting scenario in which we start from a steady state condition, and then we switch the probe field suddenly off, in such a way that these two subspaces can evolve separately. What have we done? We have computed the constant of time in a very easy way. So this is the output of the intensity that works in this way. So we have studied it, and we have found this nice scaling loss, which is basically the same of a retrieving on an entity quantum memory. Then we have done exactly the same thing for capital G2. We see how the G2 diffuses out of the ensemble when we switch the probe field suddenly off. We have computed the constant of time, this one over D, that is an interesting super radiant behavior. Putting the two things together, basically you can explain why the G2 goes to zero, and maybe you can also control how fast it goes to zero. Now we have keep on working on that, it's a work in progress, we have new results, but these new results are not in the thesis, so I will stop here. Thank you very much. Okay, thank you very much for the presentation. I have appreciated, but not only in your case, but also in the case of the other candidates that have presented this morning, the fluence in English, which is very important, even if personally I have appreciated a little bit less the Englishization of the language of the black. Ah, sorry. Sorry, sorry. Sorry. Non sono un purista, diciamo però, insomma… No, no… No, no, guarda, questo… Giusto una battuta, nulla toglie, diciamo… Al suo lavoro. Allora, io ho una domanda di tipo generale, poi lascio ai colleghi magari qualche domanda un po' più tecnica. Uno dei due revisori esterni… Eh… Il professor Reich dell'Università di Berlino, il quale ha espresso qualche perplessità a livello di coesione della sua tesi, in quanto i tre capitoli sembra che non siano propriamente connessi l'uno all'altro. Lei avrà sicuramente già indirizzato questa osservazione, quindi le chiederei di sintetizzare brevemente la risposta a questo tipo di critica. Sì, in generale è una critica che ho ricevuto, nella versione rivisitata della tesi è stata un po' migliorata. Da un lato è stato un discorso di tempo, perché mi sono trovato un po' stretto nelle varie ricerche. Il problema di fondo in realtà è un altro, che purtroppo essendo un campo particolarmente vasto non è semplice trovare delle introduzioni che siano coerenti. A volte è meglio non dire fesserie che copiare frasi a caso. Quindi ho preferito una scelta più scientificamente onesta, dare una coesione interna a ogni capitolo, con introduzioni, conclusioni, tutto prospettive. Però evitare, insomma, di lanciarmi in questi quadri generali sul mondo dell'information technology, delle nanotecnologie, eccetera, eccetera. In generale diciamo che la connessione in realtà in vero c'è, perché come avete apprezzato questa questione, nella parte iniziale, è tutto legato all'interazione dell'Ucema dei sistemi aperti. Questi sistemi aperti condividono delle caratteristiche molto forti. Molto forti. Io non sposavo bene, perché sono anche molto, dal punto di vista anche matematico, no? Per esempio, avere un sistema aperto porta alla perdita di ermitianità. Quindi spesso e volte si lavora con questi operatori che non sono ermitiani, ma che sono soltanto simmetrici. E questa è una cosa che si verifica nel mondo classico, dove noi lavoriamo con operatori simmetrici, che hanno molte difficoltà aggiuntive. E nel mondo quantistico anche, perché anche i modelli effettivi che io uso, in effetti io uso amiltoniane, che sono simmetriche, che non sono ermitiane. Quindi diciamo la problematica dei sistemi aperti, in realtà da un punto di vista formale, è molto più vicina di quanto non lo sia da un punto di vista, diciamo, sostanziale delle applicazioni. Poi dipende, insomma, molto dai punti di vista, voglio dire. Però sicuramente, insomma, io ho apprezzato anche l'altro revisore, quindi ha fatto un commento abbastanza simile. Quindi, insomma, è molto, completamente pertinente, diciamo. Diciamo, ripeto, è stata una scelta anche un po', ripeto, un po' etica, nel senso, veramente sono campi molto, molto distinti. Insomma, l'ottica atomica e le nanotecnologie, non è che sono così vicini. Ok, ha preferito mantenere distinti. Un po' più di umiltà, diciamo, piuttosto che è esatto. Per cercare di trovare una coesione a tutti i costi. Ok, va bene, la ringrazio per me è tutto. Non so se Michele e Giovanni hanno altre domande. Vi sentite? Sì. Sì, ok. Niente, allora, dunque, beh, sì, io, da un lato, prima, in maniera proprio generale, è una questione generale che, appunto, si riallaccia a quello che, appunto, stavate dicendo. La cosa che, beh, innanzitutto faccio i complimenti per i risultati. C'è da dire che per 100 slide in 20 minuti forse ci sarebbero bisogno di un paio di discussioni. In una è veramente tantissima roba da digerire. Per me che più o meno mi occupo di queste cose, immagino per i colleghi che non si occupano di queste cose. Comunque, appunto, in generale direi che mi riallaccierei a quello che dicevamo prima sul fatto, allora, innanzitutto una cosa, si è interrotto sulla parte finale dicendo che ci sono risultati che non sono compresi nella tesi, eccetera. Ecco, mi incuriosirebbe sapere, appunto, siccome si parla di una possibile pubblicazione di, appunto, questo lavoro teorico in supporto a questo risultato sperimentale, qual è, diciamo, alla fine il messaggio finale di quella che è stata la scoperta, che è stata fatta e soprattutto quale, dal punto di vista applicativo, anche se vogliamo, questa possibilità di aprire questa finestra di trasparenza all'interno di un cloud di atomi di Ritberg, insomma, quale potrebbe essere un'applicazione, ecco, prima domanda forse, poi dopo magari le altre. Sì, allora, sì, assolutamente. Diciamo, da un punto di vista, allora, la IAT, questa esperienza, insomma, di trasparenza è un po' in giro da un po' di tempo, diciamo che, diciamo, si realizzano anche protocolli di memoria quantistica con questi oggetti. Come lo utilizziamo noi in questo esperimento, in queste simulazioni, è uno strumento al fine di ottenere un convertitore, possiamo anche chiamarlo così, di luce classica e luce quantistica. Cioè, essenzialmente, diciamo, se noi prendiamo un singolo atomo e lo eccitiamo, quando questo atomo emette, questo atomo emetterà un fotone. Su questo, non c'è dubbio, perché è stato eccitato e ha avuto una transizione. Questa è una luce puramente quantistica. Dal punto di vista, diciamo, tecnico, ha una G2 esattamente uguale a Z. Cioè, non c'è possibilità di misurare due fotoni, perché non ci sono materialmente. Ovviamente, il discorso di raggiungere queste sorgenti quantistiche stabili in visione di implementare protocolli quantistici, per esempio, che è una necessità, insomma, di produrre singoli fotoni, per esempio, ma in realtà con le Rydberg atoms si fanno anche porte quantistiche, non soltanto generazione, ma nel caso specifico di questo esperimento, è una cosa complessa. Allora, certamente sarebbe utile avere un sistema nel quale ho un laser che perfettamente controllo, illumino la mia nuvola, gli atomi, e in uscita ho una luce che è puramente quantistica, una luce puramente anti-bunch. Ho un generatore di singoli fotoni, se vogliamo, in qualche modo, no? Il problema, chiaramente, di fondo, qual è? È che questo è stato fatto, c'è un gruppo di... un gruppo Harvard-MIT nel 2012, con quel lavoro stazionario, voglio dire, in steady state, insomma, luce continua. E recentemente questo gruppo di ICF ha fatto delle misure invece in transitorio, ma non è l'unico gruppo, c'è anche un gruppo della Durham University che ha fatto esattamente le stesse misure. E entrambi hanno notato che la G2 non è costante nelle analisi in transito, cioè in vero, poiché avere una G2 molto piccola mi porta a delle difficoltà tecnologiche, che sono, per esempio, legate al fatto che io devo intrappolare cloud di atomi più grandi, ma questo poi la dipende da problemi di differazione, problemi di blocchi, eccetera. Oppure devo utilizzare dei campi di controllo molto molto piccoli, ma il problema è che se io uso dei campi di controllo molto piccoli, la luce si propaga molto lentamente, gli atomi si muovono, l'informazione si perde completamente. È un problema rilevante, diciamo, raggiungere queste G2 veramente basse. E in steady state è un po' complicato. Quindi una possibilità potrebbe essere utilizzare impulsi. Cioè mandare impulsi e mantenere soltanto la parte dell'antimpulso che è più anti-bunch, cioè quella che ha la G2 più piccola. In questo modo avrei un generatore, diciamo, di singoli fotoni pulsato. Ovviamente io non ho la probabilità che ogni volta un fotone in uscita, però diciamo questi mandano comunque non so quante decine di migliaia di trial al secondo, voglio dire, quindi probabilisticamente è un meccanismo. No, 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 ho capito. No, per la buddhista tecnologica, insomma, le obiezioni possono essere milioni, diciamo, è un lavoro in progress. Il fatto che ci siano due gruppi sperimentali che lo stiano studiando, a me rincuora un po', perché comunque, insomma, diciamo, mettono molti soldi che valgono certamente più del mio tempo. Quindi mi dà più coraggio per studiare, mettiamola così. Va bene, va bene. No, 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 ok. Ho capito bene il cuore del discorso. Allora, un'altra cosa, muovendoci adiabaticamente alla parte plasmonica e fottonica, allora, nella parte invece precedente, lei menzionava il fatto, appunto, ha fatto questo studio di questi sistemi aperti, chiusi, dopodiché, appunto, nella seconda parte ha fatto vedere, sostanzialmente, che nel caso si volesse, ad esempio, utilizzare delle particelle fotoniche piuttosto che plasmoniche per accoppiarsi meglio, appunto, a degli atomi, eventualmente, o molecole, insomma, in questo modo, appunto, un modo per studiare questi sistemi, appunto, l'approccio quantistico. Poi, però, diciamo che lo sviluppo principale è stato fatto su particelle, chiamiamole così, quelle che chiamavate, cioè quelle grandi. Ora, questo, però, un pochino, sappiamo che va un po', cioè, una particella di dimensioni come quella che ha citato lei prevede anche dei confinamenti di campo molto più ridotti e quindi tutto il discorso di accoppiare meglio ad un eventuale sistema atomico, per esempio, può essere molto inefficiente con un sistema, utilizzando un sistema così aperto? Assolutamente. Beh, sì, diciamo che il discorso di fondo è, ovviamente, uno prende una... Allora, diciamo che innanzitutto questo metodo... No, no, sono tutte, ovviamente, sono perfettamente d'accordo. Diciamo che questo metodo, come è stato sviluppato poi nel lavoro, poi è stato applicato anche a D-mail, insomma, quindi a particelle accoppiate, eccetera, dove c'è una regione privilegiata, voglio dire. Quindi, l'ho il caso, magari, della teoria, magari la simulazione e la prova, diciamo, con una soluzione analitica, si fa meglio col caso della sfera, perché ovviamente la sfera si può calcolare anche in altro modo, questo di che, no? In modo proprio analitico e non puramente numerico. Poi, in realtà, dal punto di vista general il metodo di Applinio abbiamo applicato anche a una botta di antenna, quindi dove ci sono queste zone particolarmente privilegiate, al centro dei due oggetti, in cui io penso che lì si possa raggiungere un accoppiamento efficiente. Il discorso su grande e piccolo è vero, in realtà, perché noi sappiamo che c'è un altro agente da mettere nella storia che sono le perdite omiche che non sono trascurabili e allora il discorso poi diventa quando le perdite omiche vincono sulle perdite per radiazione. Solitamente per particelle piccole, ovviamente, la radiazione non c'è, come ho fatto vedere nella primissima parte e quindi le perdite omiche sono quelle che dominano. Quando le particelle diventano più grandi, in realtà, la curva di decadimento radiativo potrebbe diventare quella dominante. Diciamo che uno studio a parte potrebbe essere anche l'analisi, fare esattamente con lo stesso formalismo l'accoppiamento con il reticolo fononico, certamente, porterebbe a risultati, tanto sono processi ortogonali in potenza, quindi alla fine il decay sarà una somma dei reciproci, insomma qualcosa del genere, non si parlano, i fononi non parlano con i fotoni, insomma, ci parlano sempre tramite gli elettroni, quindi diciamo questo discorso grande e piccolo poi deve essere sicuramente affinato. Questa è una miltoniana interazione plasmoni-fotoni, ma è una miltoniana che in realtà va bene anche se lo studio plasmoni nel grafene, voglio dire, non è che ogni volta che io ho un gas di elettroni libero posso fare questo tipo di quantizzazione. Certo, certo. Ma sempre rimanendo, infatti, uno dei dubbi che aveva, che ho anch'io, che mi sono tenuto anch'io avendo letto un po' la tesi che aveva anche uno dei relatori, era il fatto che effettivamente quando poi si va a trattare cioè da sistemi aperti semplici, sfera, chiamiamola così, poi si passa a sistemi un po' più complicati, un po' più complessi appunto, multiparticella oppure particelle con una geometria un po' più particolare, sembra che diciamo l'approccio utilizzato non diciamo non vada molto così molto vicino all'inagrimento diciamo con quello che invece succede per il caso della sfera e non sembra che nella sua tesi ci sia una, io ho provato a cercare se c'è una trattazione di questo diciamo divario che accade per questo tipo e non sembra esserci quindi magari questo è un momento buono per commentare sì 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 commento subito allora diciamo purtroppo il professore Wink ha fatto una revisione impeccabile veramente ha studiato tutto con un'attenzione sconvolgente sono rimasto colpito e ha fatto meriti e demeriti di ogni cosa purtroppo questo ha il suo unito errore perché non ha capito cioè un errore forse anche mio nel non mettere 18.000 label ma in realtà in quella figura ha letto male la figura perché quella è una comparison tra due approssimazioni diverse ed è per dimostrare che una delle due non funziona ciò non toglie che in vero la soluzione analitica non c'è quindi io non ho posto un risultato di riferimento forse è stato lì diciamo là perché il problema è che quando uno ha queste se uno ha un metodo analitico per calcolare il dichiaro di queste potenti vorrei saperlo però al momento che io saper insomma non c'è quindi diciamo questa è anche complicata no a tratto devo dire che ha tratto un po' in inghanno anche me perché la scelta del tratteggiato del puntinato era un pochino ok comunque spero di aver spero di purtroppo sì è stata una pecca mia grave perché non ho insomma dovevo mettere altre lebe un po' dispiaciuto però insomma purtroppo è stato un errore è stato un errore mio no no va bene va bene a questo punto è chiaro è chiarito almeno che insomma il modello c'è stabile niente invece l'ultima cosa scusate poi non vi ruvo più tempo anche perché stiamo arrivando insomma abbiamo già sforato ampiamente la pausa eccetera no volevo chiedere quando appunto adesso prima parlavamo del sistema aperto sistema più chiuso lei dice particella molto piccola è un sistema chiuso allora di cosa stiamo parlando nel senso che beh in realtà io ho lavorato moltissimo anche con particelle molto piccole in realtà non sono mai sistemi chiusi no allora sì una particella molto piccola è molto più simile a un risonatore ideale però in che senso e soprattutto quando parliamo di piccolo di cosa stiamo parlando per esempio di una particella quando parliamo di una particella metallica ad esempio sì 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 assolutamente un'ottima in realtà anche l'altro esempio che ho fatto sulla cavi di Q&D non è un sistema cioè le cavità hanno perdite voglio dire quindi in realtà il sistema chiuso è sempre un limite concettuale in vero in realtà da un punto di vista diciamo tecnico se uno include una descrizione puramente elettromagnetica delle strutture metalliche quindi include anche le perdite omiche o le transizioni tra bande eccetera eccetera gli elementi di apertura possono essere anche quelli cioè possono anche perdere tramite quei canali essendo questa una descrizione che tratta l'interazione plasmone fotone in realtà il range di chiuso è un po' più largo perché i decadimenti diventano significativi dopo un po' almeno per il dipolo non subito possono essere anche 25, 30, 40 nanometri per il quadropolo l'ottopolo diciamo prima che il radino la faccia diventa diventare ancora più ancora più grande per esempio per una particella d'oro il discorso è un limite concettuale però è diciamo volendo e anche questo è l'interesse del lavoro perché perché sistemi aperti perché il sistema aperto corrisponde a qualsiasi condizione realistica e quindi in realtà queste correzioni che io calcolo sono perfettamente applicabili proprio a quelle particelle di 20, 25 nanometri 15 nanometri quale uno vede che magari è un sistema che non è chiuso perché diciamo questo sta perdendo e uno può aggiungere una descrizione di questo tipo qua che è molto facile da gestire perché alla fine si è rivelata essere operatori molto semplici e un po' quello diciamo ha colto perfettamente il punto fondamentalmente un sistema non è mai veramente chiuso quindi diciamo la trattazione aperta è ancora più ancora più rilevante è un limite concettuale che noi facciamo io con il limite concettuale lo devo fare perché ho bisogno di un limite in cui posso descrivere il campo elettromagnetico solo con un potenziale elettrostatico e quindi il potenziale è accoppiato al moto delle caride in modo autoconsistente io posso scrivere una descrizione puramente fluida dove non c'è radiazione poi se questa discussione viene estesa in modo non attento porta ai risultati completamente scorretti e quindi poi bisogna inserire i fononi radiativi e piano piano uno va a calcolare queste curve ma sono curve che partono in modo molto dolce quindi spesso ripeto quando una particella per esempio d'oro se devo dare dei numeri non sono espertissimo di numeri però immagino sotto i 50 nanometri di diametro per esempio io direi che è prevalentemente caratterizzata da perdite omiche non da perdite radiative non direi che il sistema sta irradiando in modo particolare dovessi esprimere un parere così ma ripeto poi ci vuole anche un po' di esperienza poi sul campo reale io ho fatto insomma soltanto teoria quindi poi può essere anche che sono in errore no 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 va bene va bene ho capito ho capito perfettamente punto e niente io ne ho tante 100 slide quindi ne ho di cose però io direi che a questo punto mi interromperei se ci sono domande degli altri colleghi a questo punto no no per me va bene anche in interesse del tempo ok perfetto voglio dire se sono domande di curiosità e che non sono diciamo finalizzate alla valutazione è chiaro che la cosa può andare avanti diciamo anche su altri altri canali va benissimo allora grazie ancora allora eccoci di nuovo allora vedo che Giovanni è in linea dovrebbe esserci anche ci sono anch'io anche Michele ok sì quindi aspettiamo allora torniamo al programma nel pomeriggio abbiamo il primo candidato per la presentazione è Marco Coraggio buongiorno buongiorno eccoci qui ti vediamo bene bene ok se ci fa la cortesia cortesemente di mostrarci il metodo di identità ok ok la vediamo ok ora è a tutto schermo perfetto per me iniziare ok ok good afternoon everyone I'm Marco Coraggio and my supervisor for my thesis was Professor Mario Di Bernardo the title of the thesis is Analysis and Control of Piecewise Smooth Systems and Network I graduated in 2016 in Automation Engineering and then I did my PhD in the area of Molina Control Systems I also spent three months at the University of California in Santa Barbara with Professor Francisco Bullo and during the PhD I wrote four journal papers two of which are currently published and two of which are currently under the ongoing in the peer review process I also wrote three conference papers and gave four keynotes at international companies during my PhD I dealt with several topics I started with the control of atomic force microscopes which is something I had begun during my master thesis then I moved on towards something more theoretical that is the observer design of piecewise smooth systems and then after that I complemented the observation problem with the control problem specifically I controlled the oscillations which are undesired phenomena in landing gears and in a specific kind of robotic art after that I focused on what I would argue is the main topic of my PhD work which is synchronization of piecewise smooth systems then during my period at Santa Barbara I worked on improving robustness in electrical microbrids and finally very recently I extended the work on synchronization of piecewise smooth systems to synchronization of non-identical systems as you may have noticed all the topics share at least one of two common threats they are either discontinued they have either discontinuous dynamics or they involve the study of collective behavior in complex networks there are I have talked about several topics but here in this presentation I selected two of them to give a possibly a representative overview of my work one of them is more theoretical and the other one is more applicative the former is answered to this question will coupling between piecewise smooth agents trigger synchronization whereas the second answer would be how to use local information to make electrical grids robust here is a list of my publications but it is here just for reference at this point I can start with the first topic I would like to talk to you about which is synchronization of piecewise smooth systems as we know in nature and in application and many engineering applications there are many examples of systems that can have some discontinuity in their dynamics the first example would be that of switching control systems so any system controlled by say a relay can become a switched system but also you can find discontinuities in mechanical gears where there can be the phenomenon of backlash but also in biological examples you have some neuron and cardiac cells models that are sometimes modeled with piecewise smooth differential equations and then also in the area of electronics and power and power electronics many times we have converters which have some switching components inside them but then one next question that could arise from this observation could be what happens if in some scenario we find many of these systems interacting in a network this could happen for example in the driveline or a vehicle where you have many rotating components that clearly communicate between them and then also a biological neural network but we can also think of a power grid or some cooperative robot tasks in all of these examples it is crucial to understand which collective behavior rises from the interaction of the agents and this is something that cannot be understood by looking at the specific dynamic of the specific system but needs to be studied through the whole network there are many collective behaviors that one can find in applications I personally focused on synchronization which is one of the simplest ones yet it is relevant in many applications by synchronization I simply mean that all the systems in the network and by system I mean a dynamical system eventually achieve the same trajectory in time this could be of interest for example in the case of the driveline because you want all the rotating components to do so with the same angular velocity so that you have an efficient transmission of power or for example in the biological neural network synchronization has been linked to visual activity and motor coordination then at this point I need to tell something about what was the state of the literature when I first came into this topic there have been several works because this topic has been studied for at least 10 years but yet none of them managed to tick all of these three boxes which is giving some conditions for these synchronization phenomena that are global in the sense that they hold for all the initial conditions of the agents in the network then we would like synchronization to be asymptotic in the sense that the error between the trajectories of the state is exactly zero asymptotically of course and also we would like to solve this problem without using some centralized control action some external agent out of the network because in that case you would need some agent that is able to communicate to all the others and this is very constant in some applications and outright infeasible in many others indeed typically the synchronization problem in the literature is solved using the coupling which is what I'm going to present in this presentation hopefully everything will be clearer when I give some equations describing the problem we are considering a graph as you see on the right where each vertex is a dynamical system and the edges describe who communicates to whom the dynamics of each agent is described by a differential equation with a part coming from some internal dynamics F which is the same for all the agents plus some coupling term which will be determined by the kind of coupling that we actually choose the crucial bit here is that the dynamics function F can be discontinuous so for example it could be F plus in a region or F minus in a different region and this fact can give rise to a plethora of problems that need to be solved with ad hoc solutions what you want to do in this setting is find some conditions for asymptotic synchronization which is that eventually all the trajectories of the agents become the same at this point we need to say something more about this function F which is the internal dynamics because we said it can be nonlinear it can be discontinuous but if it can be anything the problem is too large and we won't be able to give any result at all so what I did is extending some conditions that are typically used in the literature on networks you can see on the bottom of the slide the condition you're all familiar with which is the Lipschitz continuity condition and as you know what that does is constraining in some way how nonlinear let's say the function can be it's an inequality in the function but then several extensions have been made through the years among which the one-sided Lipschitz here and the quad condition here what we only need to know right now about these conditions is that they are more general than Lipschitz condition but again they somehow constrain how the function can be the problem is is that many functions do many discontinuous functions do not satisfy to any of these properties and so the framework existing cannot be used for this continuous function therefore I had to extend the condition and I gave my own version which I called sigma quad condition where sigma stands for sign which appears here and as you can see is again an inequality in where the function f appears now again explaining in detail an intuition behind this condition is not straightforward but I would like just to say that if a function has any number of finite jumps it can still satisfy this condition which is quite general actually for discontinuous systems also I would like to focus on these matrices q and m because they will appear later okay we said something about how the single system is done at this point we need to say something about how the communication takes place between the agents we start considering a linear diffusive coupling which is the most typical kind of coupling found in the literature and also in applications as you see it is just a constant c times a matrix gamma times the difference between the two edges linked by the edge and this will appear in the differential equations but at this point it is clear in the literature that it is not possible to achieve asymptotic synchronization between piecewise move systems with only a diffusive coupling so what I did is adding a further layer of communication which can even have a different topology in the sense that the edges can be different and the main difference with respect to the other one is that here the sign term appears so that you have the sign of the difference rather than the difference itself when you put all of this together you get the equations of a multiplex as it is called or multilayer net so that the dynamics of the IF agent is given by an internal part in green which and that is the same for all the agents and then a blue part which is related to the diffusive coupling and the red part which is related to the discontinuous coupling at this point we can start to formalize our question our main question which is can we find some values of the coupling gains C and CD such that if they are strong enough we are allowed to see synchronization and the answer comes in the next slide I give this theorem suppose that the dynamics satisfies to that sigma quad condition that I previously gave with some matrices PQ and N right then we can find that the network will achieve synchronization globally if the gains C and CD are both beyond some thresholds and now one thing that I consider neat is that these expressions for the thresholds are given as a nice combination between the three elements that make up a complex network indeed on the numerator you can see something coming from the dynamics of the agent how the agent is done and indeed you see the matrices Q and M that come from the sigma quad condition then on the denominator you see two terms which are related to the topology of the graph that is how connected they are how many edges are there and how are they placed in fact on the left you see the second value of this matrix L this quantity is well known in the literature and it is called algebraic connectivity whereas on the right this quantity delta of gd gd is the graph of the discontinuous layer I will say what that is in a second because that is a new connectivity measure that came out of this problem and this is the first time that it appears in synchronization problems and then there is also a term related to those messages gamma and gamma d that say how specifically communication is carried out on the links in the network okay at this point I would like to spend a couple of words saying what that quantity delta of gd is I call that minimum density it is computed from the sparsest cut in a graph so assume you have any graph which can be arbitrarily complicated what you need to do then is find the sparsest cut which is a known concept in literature you have to find a cut that separates the nodes in the network in two clusters of roughly equal size while minimizing the number of links between the clusters in other words you are trying to find the worst bottleneck in the graph and it is clear that if there is a very bad bottleneck in the graph it will be more difficult for the agents to communicate with each other and it will be more difficult for them to coordinate and achieve synchronization in formal terms we are trying to solve this problem which is a minimization problem unfortunately this problem here is NP hard but I could devise an algorithm to solve this expression numerically for any network and give some simple formula for selected topologies which are the ones typically considered in the literature that is the concrete graph star graph ring path and so on and this formula here are very simple like sometimes even just two or three elements but I'm not reporting them here for the sake of gravity here I give an example to see how this theory could be applied to a specific to some scenario consider a network of 30 chaotic relay systems which have these dynamics here now if we go back to the conditions of the theorem the first thing we need to do is to verify whether this function f is sigma quote and we can find that it is with some matrices p q and n all right the next step is putting together all the ingredients in the expression of the thresholds c star and c d star we can do that and obtain some numerical values then the theory tells us that if the gains are below these thresholds we are not sure that we have synchronization and indeed in this case the synchronization error does not go to zero whereas if the gains are above the thresholds then we are guaranteed to see synchronization in the systems clearly these thresholds here are somehow conservative because they are computed from a Lyatmov theoretical approach but this is expected at this point I would like to jump to the second topic in the presentation which is power flow minimization in microbrids in case someone is not familiar with that microbrids are a rather new kind of concept they are distribution level power networks and they include many kinds of new components like renewable energy rather new like renewable energy sources and smart loads and batteries and many others now the crucial bit for us now is that these networks can operate separately with respect to the transmission grid and why is this important because for a control theoretical point of view one can push forward and experiment with sophisticated control algorithms without worrying about what happens to the rest of the grid so this allows to experiment and to implement more sophisticated strategies for a first implementation of the solution to this problem I consider this kind of network here where you have some generators here in teal and some loads in red and this is again a complex network the loads are described by the equations on the bottom and they are algebraic equations in this case and as you can see they just say that the power pi star demanded by each load must be met by what it receives from the rest of the network which is the summation over here for the generators we have the equations on the top the meaning is very similar I just want to point out here that theta i which are the states of the network are some phase angles of some voltage signals and importantly this quantity here di which appears as a coefficient is very important for us because it will be our control input and later I would say how that comes into play typically this kind of network here will reach a steady state consensus with all the frequencies of the signals becoming eventually the same and moreover there will be clearly some power flows on the edges we call that psi ij so psi ij is the power flow going from node i to node j what is the big problem here is that if these power flows here are too large there is the risk that the network operator disconnects that edge because that could lead to some critical fault and we want to avoid that condition so the control goal here again is avoid large power flows to carry out this problem we consider the quantity di and we consider that the higher the quantity di the less power generator i provides to the network so if some di is low the other generator will make up for the difference and give the rest of the energy required so this di is like a knob that we can regulate to determine how much power each generator is given formally the problem we are trying to solve is the following minimize the maximum of the flows by changing these quantities is di right now one thing I consider notable about the solution is that it is decentralized and dynamic in the sense that meaning decentralized I mean that no global information is required to solve the problem which is a good thing because especially if the network is large maybe there is no agent that has global information about the state of all the network furthermore it is dynamic the solution I mean in the sense that it is valid for all time instance it is not as we compute this optimization problem here which is valid for the steady state and give the solution that's not what we do we apply a strategy that holds for all time instance how can we do that this is the strategy we follow solving this problem first we need to locate somehow which edges in the network are currently under the greatest stress so where is the part for the largest or or more specifically the closest to its limit right then we want to transmit somehow this information upstream to the generators that are using those links because maybe they are congesting the network with that information those generators can automatically decrease the power they are giving to the network in order to decongestionate it okay you may have noticed that the most critical point here is actually the second one how to transmit this information in the network here is the solution I gave to this problem we previously we considered the power flows psi now we consider a further quantity which I denoted with capital psi which is relative to node i not to an edge and it is the maximum flow in the downstream of a node so consider this network here the nodes are red and the generators are blue we want to find this quantity of this node on the top right the first thing is find the downstream of this node which is found by following the direction of the flows at that point we find the maximum flow on this tree and in this case it is 0.46 of course it could have been arbitrarily far from the node in this case here it is incidental that it is close to it but while this information here appears global and it is it can be computed with only local information so that in the practice this node here on the top only needs to have information about this edge which is close to it and the node which is close to it then the information will flow everywhere in the network and this computation can be arbitral and fast so after that after defining this new quantity capital xi i we have to recast the optimization problem because previously we had minimized the maximum of the flows now we minimize the maximum of these maximum downstream flows capital xi i how do we achieve that in practice we use this information on capital xi to regulate that coefficients di this is the law that achieves this task consider i am i'm representing a generator generator i if the capital xi of generator i is greater than that of the average of the other nodes then this quantity here is positive if this quantity is positive then di dot the variation in time is positive which means that generator i will give less power as time goes by and the network will find an equilibrium automatically and most importantly I would like to note that the optimal values of the power flows that come from this distributed algorithm are actually the same as those found by decentralized optimization problem and we can find that in an example in this case here we decided the coefficients di by applying the offline optimization and solving that numerically and in this case here we find that the maximum values of the flows is 0.46 if we instead apply the distributed dynamic algorithm we find that again the maximum value of the flows is 0.46 as you can see in this graph over here at this point I'm wrapping up to conclusions I presented briefly two research topics the solution of the synchronization of piecewise smooth systems which had been open for several years and the problem of power flow minimization in electrical microbeads in the future there are several directions that may be investigated and here are the ones I consider the most interesting ones concerning the synchronization of the piecewise smooth systems it is very interesting to think whether we can find some explicit relations between the layers what I mean is if I know how one layer is done right how many edges are there where are the edges can I decide in a smarter way how to design the other layer so that maybe I need to spend less energy right and also can we find some less conservative thresholds maybe just asking that they hold locally around the synchronization manifold then concerning the power flow minimization problem the obvious next step is proving formally that this distributed solution corresponds to the solution of the global optimization problem unfortunately carrying out this formal proof is rather complicated because those capital side that I showed are dependent on time because they depend on how the flows change the network in time so it's a very complicated problem and it is not obvious how to solve that at this point I'm done with my presentation I thank you for your attention and if you have any questions I'll be happy to take perché non ne ho trovato, sono stati molto positivi, una cosa che posso dire e che posso chiederle è qualche spunto per trovare una connessione un pochino più vicina, anche se fosse magari non nel brevissimo periodo, in un periodo più lungo, in termini di implicazioni industriali della sua attività di ricerca. Sì, dunque, questo mi dà anche la possibilità di evidenziare un aspetto. Per quanto riguarda il secondo tema che ho presentato, quello delle microgrid, immagino che l'applicazione sia più evidente, nel senso che attualmente questo tipo di reti, le microgrid, si stanno diffondendo, nel senso che ora sono ancora sperimentali, però una volta che saranno più utilizzate, perché ci saranno più dispositivi di generazione di elettricità remoti e più distribuiti, come per esempio pannelli solari, impianti eolici, eccetera, sarà sempre più immediato trovarne il scontro. Per quanto riguarda invece il tema dei sistemi regolari a tratti, sicuramente è un tema che ha un'importanza più teorica e metodologica. Ma il punto è che nella pratica molti sistemi sono discontinui, come ho fatto vedere all'inizio. Ed effettivamente non è questo l'aspetto che rende la trattazione più teorica, ma è quello che riguarda, lo voglio mostrare un attimo attraverso delle slide aggiuntive che avevo preparato. Quelle matrici gamma e gamma D, non so se se ne ricordate della trattazione, hanno il problema che si chiede spesso che siano sostanzialmente definite positive. Quelle matrici gamma e gamma D determinano come si effettua l'accoppiamento tra gli elementi della rete. Il problema è che già per un sistema in forma canonica questa cosa non è più vera, perché per un sistema in forma canonica, supponiamo dei sistemi posizione e velocità accoppiati solo sulla velocità, questa matrice è 0010. Però voglio evidenziare che questo è un problema che è comune a tutta la letteratura sulla sincronizzazione globale, non solo quella di sistemi discontinui e sull'approccio che ho proposto io. Per questo, una delle direzioni future che si possono intraprendere, secondo me più interessanti e più utili per l'applicazione di questi risultati, sarebbe proprio capire come superare questa difficoltà in cui si chiede che queste matrici gamma e gamma D sono definite positive, perché se questa difficoltà venisse superata, l'applicazione dei risultati sarebbe molto più immediata. Va bene, grazie. Per me è tutto, non so se Michele e Giovanni hanno altre domande. Sì, magari posso farne io qualcuna. Una segue un commento da parte di uno dei revisori, è interessante l'idea di legare le condizioni alla densità, la minimum density della rete. Ora mi domando un po' di cose, qual è la relazione tra questa densità, se ci ha pensato, rispetto all'algebra e connectivity, e poi non so se conosci il concetto di R-robustness nella rete, che anche questo concetto è legato al discorso di tagli sul grafo. Sarebbe la prima domanda, giusto una considerazione. La seconda è giusto che è complicato da calcolare in generale. Quindi mi domandavo anch'io l'applicabilità di questi argomenti. E quanto esce conservativa poi questa condizione? Sì, allora, per quanto riguarda la condizione, la domanda sulla minimum density, devo ammettere che non sono familiare con il concetto di A-robustness, quindi lo dico subito. Però per quanto riguarda questa delta, una cosa che mi ha colpito molto è che se si vede in queste espressioni qui, hanno sostanzialmente la stessa forma, però a parte queste misure di connettività, le quantità appaiono su delle norme diverse, perché la Q appare sulla norma 2, e anche questa quantità qui è molto legata alla misura matriciale, alla norma logaritmica, appare calcolata in norma 2. Alla fine è l'autovalore minimo della parte simmetrica della matrice. In questo caso qui, questa norma appare con la norma infinita e la misura appare con la norma infinita. Quindi una cosa che ho immaginato è se con altri tipi di accoppiamento, quindi che non sia un segno, ma considerando il massimo, il minimo, altri tipi di leggi non lineari, si potrebbero avere delle soglie e delle condizioni che coinvolgono altre norme, e quindi se questa cosa sia in qualche modo ancora più generalizzabile. Non so se ho mancato qualche punto riguardo questa domanda. Secondo, mi aveva chiesto il legame tra lambda 2 e delta, e delta secondo me appunto è questo, cioè che cambiando il tipo di legge di accoppiamento potrebbe cambiare in maniera ancora più generale il tipo di misura associata. Poi mi aveva chiesto riguardo l'applicabilità. L'applicabilità in computazione, diciamo della condizione sufficiente in sé, ma anche rispetto a, se io effettivamente le posso applicare questa metodologia per reti grandi, dove non abbiamo delle reti star, oppure quelle reti di cui è nota con l'algoritmo la delta, ma come faria a considerare queste reti? Allora, per quelle reti lì non è tanto un problema alla grandezza, secondo me, nel senso che ovviamente se sono molto molto grandi, l'algoritmo che ho utilizzato per trovare numericamente questo valore qui è una modifica di alcuni algoritmi avanzati che ho trovato nella letteratura. Quindi bisognerebbe vedere come performano quegli algoritmi su reti estremamente grandi e soprattutto se ci sono delle semplificazioni che possono essere fatte in quel senso. Riguardo, mi chiedeva anche la conservatività delle soglie, devo dire che purtroppo sono abbastanza conservative, nel senso che, faccio questo esempio qui, nell'esempio che ho fatto, come potete vedere, il valore, questo è un valore che non dà una sincronizzazione, era molto piccolo, ma il motivo per cui i valori, cioè quello che succede è che tante volte bastano dei valori molto più piccoli dei guadagni di accoppiamento, e su questo voglio fare due commenti. Il primo è che il motivo per cui si ha questo comportamento è che le soglie sono globali. Quindi in questo caso qui, per esempio, i sistemi che erano caotici stavano evolvendo nel loro set caotico. Però queste soglie valgono anche se i sistemi divergono, per cui sono dei valori che valgono in tutto lo spazio di Stato e quindi sono anche condizionati da questo. Nel sistema che se è molto più difficile far convergere i sistemi, se stanno divergendo o se hanno un'altra soluzione che non conosciamo, queste soglie vanno bene lo stesso, però il trade-off è che se la soluzione è più contenuta nello spazio di Stato, e quindi questo vuol dire che tipicamente la funzione F ha dei valori più piccoli, questo implica poi che è molto più facile la sincronizzazione, però noi abbiamo trovato delle soglie utili. Una cosa che uno potrebbe fare per migliorare questo frangente è di calcolare le soglie non valide per tutto lo spazio di Stato a restringere la sigma quad non in tutto lo spazio di Stato, ma solo in una parte, in maniera tale che poi queste matrici P, Q ed M tipicamente possono essere più piccole di modulo e possono dare delle soglie un po' più piccoline. Questo risponde alle domande che mi aveva fatto? Sì, sì, quindi capisco, sono un po' conservativi effettivamente. Sicuramente. Questo dipende dall'approccio con funzioni di Diagnos, comunque. Su questo non si può fare molto. Ok, quindi bisognerebbe cambiare metodologia sostanzialmente. Sì, però una cosa purtroppo antipatica, diciamo, è che al momento altre metodologie che sono state provate non si è riuscito a fare funzionare, nel senso che si è provato con la Master Stability Function, ma si è visto che poi funzionava soltanto se le funzioni in realtà non erano discontinue. Quindi in realtà non funzionava. Una domanda, magari l'ultima da parte mia. Dalla presentazione sembra che i sistemi ai nudi debbano essere bimodali. No, no. Ah, ok, ok. No, era solo un esempio semplice. Ok. E poi nel grafo multilayer, un grafo è stratico e l'altro può cambiare. Sarebbe possibile estenderli in modo tale che tutti e due grafi siano switching? Allora, ah, ok, può cambiare nel senso che c'è il segno, questo intendo. Se poi gli archi riassumiamo costanti. Sì, quindi se vogliamo immaginare che questi archi possano cambiare, questa è la domanda? Sì, e anche proprio eliminarsi o comparire, diciamo cambiare la topologia nel tempo. Allora, una condizione che finora, la condizione necessaria, una sufficiente, che ho trovato è che ognuno di questi due livelli doveva essere connesso, ok? Però il punto che facevo nell'ultima, nelle future directions, è proprio che in realtà forse si potrebbe, cercando di non per forza esigere la sincronizzazione asintotica o globale, magari si potrebbe far sì che non sono entrambi connessi, quindi la connessione c'è soltanto sull'unione dei due grafi, e per quanto riguarda la tempo-varianza degli archi, sicuramente si può arrivare a dire qualcosa con i risultati che hanno trovato Hill e Zhao intorno al 2008, se non sbaglio, e si dovrebbe sostanzialmente unificare un po' quel framework a questo framework. I due framework hanno entrambi le discontinuità, però voglio sottolineare che sono delle discontinuità trattate in modo molto diverso qual è la soluzione, quindi non è immediata l'applicazione. Ok, va bene. Anche per tempo, ci sarebbero altre domande, ma anche per tempo passo la palla ad altri. Non so se Michele ha delle domande, o il Presidente. No, io avevo quella domanda generica che ha fatto il Presidente all'inizio, quindi direi che è già stata risposta, quindi se hai altre domande, probabilmente può procedere. Giovanni, allora io, come prima, se le domande sono finalizzate ad una valutazione più approfondita, farle pure, non è qualche minuto più, qualche minuto meno che ci cambia il programma, tanto un pochino di ritardo purtroppo lo accumuleremo. Però se invece sono discorsi così più di curiosità sul topic, allora possiamo anche rimandarle ad un'altra fase, insomma, diciamo. Quindi diciamo, sentiti libero di decidere. No, va bene, allora dai, rimandiamo ad un'altra fase. Ok, perfetto. Allora, grazie mille per questa presentazione. a Marco Coraggio e allora invito il prossimo candidato che è Raffaele Martino. Sì. Mi riuscire a sentire? Sì, la sentiamo. La vediamo anche. Allora vediamo un attimo il documento. Allora, non so se vedete la presentazione. Io la vedo. Sì. Perfetto, quindi posso... Può cominciare, sì. Può cominciare. Vabbè, ok, perfetto. So, my name is Raffaele Martino, my tutor have been professor Alessandro Cilardo and my thesis is entitled Exploring the Chateau Design Space. This is the outline of my thesis, actually of this presentation and after a brief introduction about myself I will move to give you the motivation of this thesis work supported with a number of relevant examples and then I will state the problem statement and the contribution, the main contribution of this thesis. The subsequent part of this presentation will be focused on the methodologies that have been developed that have been developed that have been developed during this PhD program in order to evaluate different architectural alternatives for the hardware acceleration of the Chateau hash function with main aim of isolating the impact of the underlying target technology on the effects of the design decisions. The last part of the presentation will instead focus on the introduction of a new design for a Chateau hardware accelerator which is optimized for area efficiency and then the presentation will be wrapped up by the list of publications that have originated from this thesis work. But first, a bit of detail about myself. I graduated in 2016 in computer engineering magna cum laude at the University of Naples Federico II and the following year I started a PhD program in computer architecture. During the program I had the opportunity of establish a collaboration with the Department of Agriculture of the Campania region which has basically contributed to support financially my PhD program which was by itself unfunded. But thanks to this collaboration that have been supported by a number of grants from the Campania region has started basically during the second year of my PhD program and is still ongoing. If you are interested in the topics of this particular scientific activity we can talk about later in the question and answer sections. But for now, I would like to introduce you the motivation of the thesis work and its main contributions. The overall aim of the my PhD program and the thesis work has been to evaluate methodologies for the design of a hardware accelerator with particular in particular focusing on the SHA2 hash function under different sets of constraints according to the needs of different applications. SHA2 is currently the most commonly used hash function after the phasing out of a number of once widely used alternatives which have been discovered to have vulnerabilities and then they have been phased out. And the traditional application domain of hash functions such as SHA2 has been the network security domain. In this domain the only concern which translates onto requirements on the hardware accelerator is the throughput because there are no particular issues about resources. On the other hand in recent years there have been the emergence of a number of innovative domain and application domain and specific applications which are more constraints in terms of area occupation or power consumption or even energy consumption. For example to the Bitcoin cryptocurrency or the Internet of Things domain. what's more each application has its own set of requirements so we cannot have a one six feet tall design but we need to explore a design space in which each application is represented according to its own requirements. One example of innovative application I just mentioned is the Bitcoin cryptocurrency which has sparked the more general blockchain technology. As you may be aware of the Bitcoin mining process requires a double SHA-256 hash of the would-be block header that must result to be lower than a predefined threshold. All miners in the Bitcoin network compete in order to be the first to find such an hash value for the would-be block header in order to get rewarded with the associated amount of coins which are attributed to the first miner who discovers the next block. So this places a very strong demand on the throughput of each miner. Nevertheless, this application is also highly demanding on area occupation and energy consumption. Why? Area occupation because the smaller is each miner the more miners can be packed within a single device and energy because the energy is the main operational cost of the device and then this means that this cost needs to be subtracted from the revenue of the mining process so also the energy consumption heavily impacts profitability of the device. As I mentioned, another example of innovative application is the Internet of Things domain and within this domain a particularly interesting application from the point of view of the specific requirements is the radiofrequency identification. In this application Shadow is used on the tag side as part of HMEC-based authentication schemes. This particular application is constrained on the area occupation and this constraint stems from cost limitations. In fact, in this application the tags need to be deployed in large numbers so each single tag needs to be quite cheap and this in turn means that there is less silicon area available for the design and even less silicon area available for the security scheme. Moreover, and most interestingly the constraint here is not on energy as you may be aware of in the Internet of Things in the Internet of Things domain usually there is a concern to save energy in order to preserve the battery lifetime. In this case the problem is not battery lifetime but the problem is that the tag device is passively powered by the reader so there is a limit on the amount of energy per unit of time that can be delivered to the device. It is clear that there cannot be a single solution that satisfy all the different constraints that might arise in such different applications but it is also clear that it is not easy to compare different alternatives proposed in the literature because there are several different architecture proposed in the literature but one of the issue is that each architecture is evaluated on a specific target technology and it is not possible to compare directly compare results implementation results stemmed from which have been tested on different target technology Why? Because the impact of the changing of the target technology may be difficult to factor out from the impact of architectural design decisions Moreover more often than not an architecture for the acceleration is proposed in the context of a specific application This means that the resulting design may be informed by some hypotheses that are specific for that particular application and they cannot be generalized These issues can be solved only via systematic evidence-supported analysis of the different architectures which is best supported by a framework which can allow the fast and fair evaluation of different architectural options against the same target technology So these two that I just mentioned are exactly two of the main thesis contributions The last one is the introduction of a newly proposed design which is aimed to optimize our efficiency and this design as we will see later on during the presentation this particular design outperforms all the existing literature the existing approaches proposed in the technical literature when it comes to the high efficiency metric This particular design is slightly different from what we will see in the first part of the thesis because in the development of this particular design a particular attention has been placed on taking advantage of the specific characteristics of the target technology This means that this particular design has the drawback of being actually tightly coupled with the target technology but this way of proceeding is necessary when the edges of the design space need to be reached So now we can move to the evaluation to discuss the evaluation methodology and we can start by observing that the majority of the actually all the totality of the designs for the shadow acceleration that have been proposed in their literature can be classified according to two different approaches The one showed on the left of this right is a classical processor based architecture which means to design a custom processor which customly designed arithmetic units specifically tailored for the computation required for the shadow architecture but as you can see the topology of the research sequence is strikingly similar to a general purpose processor The alternative which is far more common is to have a dedicated architecture customly designed for shadow with a specific topology which is the one that you can see on the right side on this slide As you can see from this classification that has been done as part of this thesis work this is a classification of the several approaches that have been proposed in the technical literature the accelerator approach is far more flexible in terms of optimization opportunities and for this reason the framework that we have been developed during this thesis work follows by itself the accelerator architecture approach during this thesis work also a methodology has been proposed which takes advantage of the proposed framework which has been developed in order to design an architecture which fulfills a given set of constraints needs designer needs only to choose an architecture for the innermost part of the shadow accelerator that is called the compressor and to configure a number of architectural parameters in order to obtain a full working circuit if this circuit does not meet the constraints of the application so a new iteration of this iterative methodology needs to be done the designer may well choose only to change the architecture of the innermost part of the accelerator or alternatively to change only the parameters of the framework in order to evaluate the effectiveness of the proposed approach a number of different architectures have been evaluated the first evaluation that I performed is an evaluation of all these architectures against the same target technology which have been the Kintex FPGA from Xilinx the results showed here for SHAT 156 but we have obtained similar results from the evaluation of SHAT 512 and what it emerged is that the when we look at non unrolled configurations the architecture actually outperforms other approaches in particular outperforms the basic approach the direct implementation of the SHAT algorithm on the other hand when we look at unrolled configurations which proves to have the best hash rate in general and also power efficiency what it turns out is that a direct let me say non optimized implementation of the SHA2 algorithm turns out to be more power efficient and shows a higher hash rate with the reordered architecture keeping its priority only on the high efficiency metric after having done this experiment we analyzed the critical part of the each secret as reported by the tool which is the tool that has been used in this experimental campaign and what is that in the architecture also the final stage the final training sum which appears in the SHA2 computation is was on the critical part from a theoretical point of view this should not be the case because that should be in parallel with other parts of the circuit but from the critical path analysis reported by the tool we found that that was the case and in order to investigate further this topic we configured we did another experimental campaign by configuring this time the framework in order to have a separate stage for the final addition if the final addition is actually on the critical path this addition of a final stage should be beneficial to the performance in particular to the of the resulting accelerator and the implementation results actually confirmed this circumstance that was the case in fact as you may see on the results the implementations with the final stage which are the one labeled with an apex actually shows an improved hash rate probably the most interesting experiment has been to change the target technology and see how this change affects the different architectures so we have implemented all the architectures against a different board which has been the ARTICS FPGA which is lower end devices where compared to KINTEX one that is from the same window which was Xilinx and what is stand out is that architecture are affected by the change in a disproportionate way in particular you may see that some conclusions that were true for the kinders are no longer true on the arctics and this one I highlighted in this slide in particular the direct implementation of Chateau turns out to be the best implementation also for non unrolled configuration when if you remember the experimental results from the kintex that this was not the case on that board most interestingly the final stage which we found out to be useful on the kintex is no longer useful on the arctics and this means that this particular optimization that again I stress does not come from cannot be proven by theoretical analysis but only from an experimental campaign is actually platform dependent confirming the initial hypothesis that I spelled out at the beginning of this presentation that the impact of the target technology on the resulting sequence matrix is not easy to factor out from the evaluation all the experimental results have been used to support an analysis of the impact of each architectural techniques about all the secret methods of interest for some of the methods think for example of Lupin Rolnik it is not easy to establish the overall impact on the methods because there are opposite effects so for some of these cases only an experimental evaluation can establish whether the technique is positive or negative and after having done this analysis we have been able to propose a recommendation of specific optimizations for selected representative applications that may take advantage of the hash algorithm obviously after a requirement analysis of the applications themselves anyway it is sometimes necessary as I mentioned at the beginning it is sometimes necessary to get the most out of the target technology and when this is the case it is unavoidable to take advantage of the specific target of the specific characteristics of the target technology so we explored basically this with in the case of the SHA-2 hardware acceleration and we obtained an hardware accelerator outperforming all the existing approaches in terms of our efficiency in particular we designed a SHA-256 accelerator targeted on the 7-series FPGA family from Xilinx a number of characteristics of the lookup tables available on this FPGA has been used in particular the dual output option which you can see on this slide on the right of this side what this option means the shift register capability of the lookup tables moreover generalized and parallel contexts have been used to implement the multi-operand additions which appears in the compressor and in the expanded stage of the SHA-2 accelerator The overall architecture of the proposed SHA-2 accelerator follows the accelerator approach as it was for the framework and now this is the implementation of the expander which is the part of the SHA-2 hardware accelerator which deals with the incoming message the overall objective of optimization targeted towards area occupation or if you prefer resource usage is to balance the consumption of lookup tables and flip drop in order to minimize the overall utilization of basic logic elements which in silent terminologies are called slices for this reason we chose to implement the expander without using any flip-flop but taking advantage of the shift register capabilities of the lookup table allows only one bit to be extracted from the shift register on the other end in the expander four positions need to be read from the shift register at each time and in order to address this issue a four-way redundant implementation of the shift register has been used as I mentioned before generalized parallel counters are a form of parallel counters that are not constrained to some bits of the same rank these kind of sequence have been proved to be particularly effective when the target technology is an FPGA because as you can see on the right of this slide they map quite well on the underlying resources of the FPGA for example here a mapping is shown that make use of the six input lookup tables which are available on the seven series FPGA in this slide you can see the compressor trees that have been used in the compressor and the expander respectively in the proposed accelerator approach you may notice that in the expanded multi-operant addition a generalized parallel counter which sums bits from different wings have been used in both cases the final sum has been performed via ternary adder which can be implemented in an efficient way on Xilinx FPGAs as I mentioned the implementation results of the proposed shadow accelerator outperforms all the existing approaches in the technical literature when it comes to the area efficiency metric in this slide the reported data are the same as reported in the relevant papers although there are some approaches that achieve even less slice consumption in terms of absolute area occupation it must be noted that these approaches results to techniques such as loop folding which comes with severely negative impacts in terms of throughput for this reason the resulting efficiency of these approaches is lower compared with the one presented here note also that our approach was tested against a kintex FPGA as I mentioned before it is not easy to see what it would be if this design is implemented of a big FPGA but we can expect that since the VRTX FPGA is a higher end devices compared to the kintex we can expect that the implementation results would be even better in that case and to conclude this is the list of publications that have already been published and that originated from this thesis work I have to mention that we have other contribution in preparation and in particular we have an additional journal paper which I would like to thank you for your kind attention and I am open to questions from the if you have any questions I am open to take them ok ok perfetto grazie Raffaele Martino per la presentazione rientrato perfettamente nei tempi allora io comincio con qualche domanda un pochino un po' più generale di curiosità lei ha affrontato in una delle slide iniziali il discorso del bello pronuncio l'italiana del RFID ok RFID diciamo dando per scontato che si tratta di sistemi passivi quindi non alimentati a batteria e quindi con questa particolarità diciamo che l'energy awareness è diciamo calata sulla particolarità di questi dispositivi ora mi chiedevo che mi corregga se sbaglio esistono dei transponder RFID di tipo attivo quindi in qualche modo ibridi dotati di batteria che servono applicazioni ecco adesso mi viene in mente il telepass oppure gli altri sistemi keyless pass entry exit mi chiedevo ecco diciamo la trasposizione di quel ragionamento nel caso di sistemi attivi o ibridi piuttosto che completamente passivi prima domanda seconda le faccio entrambe le faccio insieme prendo spunto anche in questo caso da una osservazione mossa da uno dei revisori esterni Luigi Coppolino dell'Università Partenope il quale tra le debolezze del lavoro ha identificato il fatto che il problema lei ha sicuramente già indirizzato in parte questa osservazione il problema è diciamo per certi versi ristretto e in particolare il limitato a determinato hardware una specifica architettura FPGA e lei ha detto che la sperimentazione dipende in qualche modo dallo specifico hardware utilizzato ora però mi chiedevo a questo punto la motivazione della scelta di uno più hardware specifici che lei ha selezionato nel suo lavoro e quali sono gli aspetti che ragionevolmente e diciamo anche formalmente consentono una generalizzazione allora comincio dalla prima domanda quella sull'RFD in realtà la questione è semplicemente che quel particolare tipo di RFD alimentato passivamente era particolarmente interessante per questo requisito aggiuntivo sulla potenza in realtà il caso più generale che c'è dell'internet delle cose è quello che menzionava lei invece di dispositivi attivi e alimentati a batteria quando possiamo considerare per esempio l'RFD alimentato a batteria ma questo è un caso proprio più generale di solito applicazioni internet or things dove sono alimentati a batteria in questo caso quello che succede è che il vincolo non è più sulla potenza ma è vincolo sull'energia perché voglio preservare la durata di vita della batteria che molto spesso coincide anche con la durata di vita del dispositivo questo dovrebbe diciamo rispondere alla prima domanda sull'RFD per quanto riguarda invece l'osservazione mostra da revisore sicuramente il problema è ristretto ma è ristretto prevalentemente per quanto riguarda il discorso della funzione di hash scelta più che dell'hardware e sicuramente come ho anche avuto modo di dire l'architettura proposta nella seconda parte della presentazione è un'architettura che è strettamente accoppiata a un determinato hardware e questo perché è necessario sfruttare risorse che sono presenti in un determinato FPGA e magari non in altre per quanto riguarda invece la prima parte quella metodologica quella sul framework di valutazione il framework in sé e la metodologia sono generici con rispetto all'hardware quindi possono essere applicati quantomeno a FPGA anche di diverse famiglie per esempio anche noi abbiamo solo Xilinx perché abbiamo in dotazione all'università proprio le schede dei board della famiglia Xilinx però si può tranquillamente utilizzare per esempio delle board altera e sintetizzare il codice VHDL quindi avendo un sintetizzatore avendo gli opportuni tool si può selezionare una tecnologia target diversa quello che è emerso dall'analisi con le nostre schede sono quelle che abbiamo a disposizione francamente perciò abbiamo trovato quelle perché quelle erano disponibili però quello che emerge è appunto che quando si va a cambiare la tecnologia target sottostante bisogna stare attenti che questo può influenzare ancora proprio perché diverse tecnologie target hanno diverse risorse quindi la sintesi fatta dal sintetizzatore può essere diversa e può avere degli impatti non facilmente predicibili sul risultato finale non so se ho chiarito tutti i suoi dubbi o se voglio dire questa cosa qui è chiara mi chiedevo se ci fosse in qualche modo magari anche proiettato sul futuro quindi diciamo tra le tra i futuri sviluppi di questa ricerca una un piano per andare a generalizzare ma non necessariamente a tutti le possibili architetture perché sarebbe diciamo probabilmente impraticabile ma determinate classi di sistemi che rispondono a determinati requisiti per cui uno può dire questi risultati sono validi non per la particolare istanza di questo sistema FPGA con queste risorse ma per la classe di sistemi che rispondono a queste specifiche architetturali per cui diciamo questo tipo di generalizzazione intendo non generalizzazione a tutto lo scibile bisogna stare attenti perché per esempio le due schede che abbiamo utilizzato noi la Kintex e la Artix sono appartenenti alla stessa famiglia quindi sono molto vicine sono una alla entry level e una alla livello medio con il top di gamma che sarebbe proprio di Virtex come ho menzionato e già solo passando tra entry level e medium level di una stessa famiglia ci sono delle variazioni quindi ripeto sicuramente la metodologia è generica i risultati uno dei punti dei contributi del lavoro di Tesis è che i risultati assoluti e anche relativi in termini di comparazione fra varie architetture dipendono molto dall'architettura sottostante quindi sicuramente noi pianifichiamo di avere dei risultati sperimentali anche per la Virtex perché quelle sono le schede che abbiamo si potrebbe pensare di estenderlo anche ad altri FPGA però quello che verrà fuori è che appunto anche quello che ci aspettiamo è che anche le comparazioni fra diverse architetture risente poi della tecnologia sottostante quello che sarebbe interessante concludo è magari fare una campagna su diverse architetture e dato che l'impatto dell'architettura non è semplice da tirare fuori fare uno studio e vedere invece cosa è costante questo è forse più vicino a quello che le diceva cercare di capire quali sono invece gli aspetti e gli impatti meglio ancora sui risultati che non cambiano cambiando l'architettura questo si può fare con uno studio ovviamente più espensivo in termini di architettura a disposizione sì esatto era questo che dicevo evidenziare quelli che sono gli elementi architetturali che in qualche modo diciamo influenzano le prestazioni e in che misura insomma chiaramente quando facciamo una ricerca di questo tipo l'obiettivo è sempre quello di cercare di generalizzare il più possibile in alcuni casi è più facile in altri casi come in questo caso qui è complicato ma ci deve essere sempre lo sforzo fermo restando che poi la metodologia come lei dice è generale quindi può essere applicata a qualsiasi diciamo nuova istanza di dispositivo con caratteristiche diverse va bene io diciamo per quanto mi riguarda ho finito le domande per cui invito Michele e Giovanni se vogliono intervenire con altre domande no io non ho ulteriori domande da chiedere anche per me Francesco va bene a posto ok allora grazie mille se vuoi per la sua presentazione Raffaele Martino e passerei al prossimo candidato quindi l'ultimo candidato della giornata che è Valentino Scalera buongiorno buongiorno ok allora se ci allora io non la vedo ancora ok ho attivato la camera riesce a vedermi ancora no ora la vedo sì perfetto si ci mostra per qualche secondo il suo documento perfetto io vedo bene perfetto ok allora via la condizione può attivare la condivisione eccoci qui ok per me può andare ok 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 i'm Valentino Scalera and my mentors are professor Claudio Serpico e Massimiliano D'Aquino my research topic mainly focuses on fast and ultra fast magnetization dynamics in magnetic storage technologies for what's concerned for what's concerned my background I achieved both my bachelor and master degree in electrical engineering here at the University of Naples Federico Secondo my research group is the research group on micromagnetics of Naples moreover during my period abroad I also been working with the ultra fast dynamic in condensed matter group which is a group of the department physics of the Stockholm University and aside from micromagnetics I've also been done some research on nuclear fusion with the research group of Naples and the Compass team from Prague but this is but I'm not going to talk about this today okay so as an outline for my presentation I first want to give an overview of what are the field of application of ferromagnetic materials and also a brief description of the theory of the theory of micromagnetism and the LLG equation then I will focus my attention on uniformly magnetized bodies and this is the case of interest for magnetic memory cells then I will move to stochastic magnetization dynamics and finally to the ultrafast magnetization dynamics which is also the topic I've been working on during my period in Sweden so first of all ferromagnetic materials are well known for the high sterocyst cycle they are not the only material that exhibit this behavior but they are probably the most reachable two important feature is the extremely high magnetic permeability and the spontaneous magnetization these two features are exploited in the application of these materials in particular the most traditional type of application are the electrical machines where the high permeability is used to enhance magnetic field and spontaneous magnetization is exploited in permanent magnet machines my research instead focuses on the other type of application which is the information technology applications in particular memories so I showed here two type of possible memories the hard disks are the most famous and also widespread technology and mram is another type of memory which is still not spread but is already available commercially so hard disks are known to be one of the possible choice for storage memory together with solid state devices although the hard disks are much slower and they are somehow less reliable because of moving parts they still are cheaper and they have a higher density data and this makes them useful choice for big databases also although they are pretty mature as technology recently the two main manufacturers are working to develop new technology for a further increase of the data density in hard disks in particularly Seagate is working on heat assisted magnetic recording the idea of this technology is to heat up the material in the area where you want to apply the switching so that the energy barrier between equilibrium states is reduced whereas Western Digital is instead working on the microwave assisted magnetic recording is based on the idea that using a time harmonic magnetic field I can move the magnetization away from stable equilibria even with small fields if the frequency of the harmonic field is close to the resonance frequency of the magnetic grains this is for what concerns higher disks for MRAMS I just want to show this table that is taken from the website of Everspin that is the main productor of this type of technology the thing I want to highlight of this table is that either for latency endurance and persistency these type of memories are extremely promising as possible future technology now the field application of micro magnetics is on the mesoscopic scale namely between 10 nanometers and 0.1 millimeters if one is instead interested in a higher space resolution one has to deal with microscopic models based on atomic spin dynamics while instead larger bodies such as electrical machines are started using a macroscopic approach which is based on Maxwell equation coupled with constitutive relations so micromagnetics comes from laws of thermodynamics and magnetostatic equations coupled together and the most important principle in micromagnetics is the principle of minimization of free energy so in this equation f is Helmut free energy and we have that equilibrium configuration is reached when the right hand side is zero namely we have an equilibrium when the sum of f and the integral in equation reaches its minimum this sum is also called Gibbs free energy as shown in the slide and for later conveniency I want also to define the effective magnetic field as minus one over mu zero times the variational derivative of the free energy with respect to the magnetization okay but still I haven't said much about what are the contributions to the Helmut free energy so generally in most of the specimen the free energy is given by this four contribution so two of them have a maxwellian nature which are the magnetostatic energy and the Zeeman energy these two energies are minimized when the magnetization is aligned respectively with the external applied field for the Zeeman energy and with the magnetic field generated by magnetization itself for the magnetostatic energy generally the magnetostatic energy is minimized when we have divergence less magnetization and if there's any discontinuity the normal component of the magnetization across the discontinuity is preserved then we have two other contributions to the free energy the anisotropy energy is due to the electron lattice interaction and this is present in almost all the ferromagnetic materials because they often have a crystalline structure while the exchange energy is probably the most important and it's due to an electron interaction actually this type of energy arise from a combination of coulomb repulsion between electrons and poly exclusion principle but what is important is that on the mesoscopic scale this implies that the module of the magnetization is constant it means it does not depend on the applied field or the shape of the material but it only depends on the temperature moreover the exchange energy also penalizes all the configuration with abrupt changes of the magnetization okay so I said how it works the micromagnetic theory to find the equilibrium I still haven't said anything about the dynamics so dynamics was first introduced by landau and leaf sheets it was introduced phenomenologically and it was described by this equation shown in the upper part of the slide two noteworthy things about this equation is that the module of the magnetization is always preserved and the equilibrium condition is compatible with the equilibrium given by the magnetic theory on the other hand this equation cannot work properly because the magnetization just process around the equilibrium without approaching to it for this reason landau and leaf sheets later modified this equation by adding one extra damping term so that magnetization eventually approached the equilibrium and later also Gilbert gave another equation for the magnetization dynamics that was derived using a Lagrangian approach this equation although seems different from the landau efficient equation describes in reality the same dynamics if gamma and alpha are properly redefined so now we focus on uniformly magnetized body which is the case of memory cells there's plenty of studies and application for this type of systems but the one I want to talk about is the ferromagnetic resonance so we talk about ferromagnetic resonance we're considering a uniformly magnetized particle with a time harmonic magnetic field this is a phenomenon of nonlinear resonance and so if the applied magnetic field is small enough the frequency response is roughly the same we have for second order linear system with one resonance peak as the intensity of the magnetic field is increased the shape of the frequency response change and for sufficiently high applied field we have the fold over this means that for in a certain range of frequencies there are two more equilibrium states possible this is this phenomenon is called fold over and it can also be the cause of hysteresis but what is interesting is the study of when the equilibrium points are created or destroyed these type of events are called bifurcations in general the bifurcation is a qualitative change of the phase part rate of a system this specific type of bifurcation is called saddle node bifurcation but in general there's plenty of bifurcations that can occur in this system and hence in order to qualitatively understand how this type of system works I draw a complete bifurcation maps of uniformly magnetized particle with time harmonic applied magnetic field so that it is possible to understand the topology of the phase portrait just by considering the value of the magnetic field intensity and its frequency here are reported not just only saddle node bifurcation but also up bifurcation that involves equilibrium state and a limit cycle and homoclinic bifurcation that occurs when a trajectory starting from a saddle ends on the saddle itself this bifurcation except for the homoclinic which is non-local the other two type of bifurcation can be studied analytically in axial symmetric systems if a system is not axial symmetric the dynamic system is not autonomous still it is possible to qualitatively understand its dynamics by using an averaging method named after Kajov and Bogulievov so using this averaging method the ripple is the fossil dynamics is filtered out and we obtain an equivalent symmetric system here on the slide is shown a figure where the red trajectory is one of the actual asymmetric system and the blue trajectory is the one of the symmetrized equivalent system okay now we move to stochastic magnetization dynamics so in general whenever a body has temperature different from zero kelvin thermal fluctuations are present they are generally not relevant but they become very important when the size of the body considered is small and this is indeed the case of magnetic memory cells so there are two possible approaches to deal with this type of problem one chance is to use Langevin dynamics so that the usual LLG equation is augmented with one extra stochastic term this equation cannot be solved analytically but it is possible to understand the qualitative behavior of the system by doing a large number of realization via computer simulation and then applying statistical analysis on the results of these simulations alternatively one can use the Fokker-Planck equation which is a special case of the Kolmogorov equation so if you have a given probability density function for the orientation of the magnetization Fokker-Planck equation can be used to compute the time evolution of the pdf function now there are two interesting cases when thermal fluctuations are very important one of these is the data retention problem so if you solve the Fokker-Planck equation you get that the equilibrium solution the pdf only depends on the free energy this means that if I have two potential wells two identical potential wells at the equilibrium I have the same probability of finding the magnetization in one or the other potential well it means no data can actually be started forever nevertheless hard disks works because the time required for magnetization for probability density function to flow from one wall to the other is very long so that data can also be retained for several years without any external energy supply yet this topic is important also because of the underdeveloped technology of heat assisted magnetic recording so what I did was to implement a numerical method the pseudospectral method in order to compute the time constant of the slowest mode which is the mode that causes the flow of the probability density function between the two wells so first I tested the code for very low barriers in particular when energy barrier is present I can achieve a machine precision on all the eigenvalues this happens actually because basis function can reproduce spherical harmonics and with no energy barriers the Fokker Planck operators is just Laplace Beltrami operator then I repeated the same experiment the same simulation just by looking at the first time constant and I tried with different values of the energy barrier it turns out that the pseudo-spectral methods works well for low to intermediate energy barriers while instead for high energy barriers analytical methods although they are approximated become more efficient the other important problem generated by thermal fluctuations is the reliability of the switching so here I showed the results of two simulations starting from the same identical initial condition and with the same system parameters and applied field and once I got a successful switching so that the magnetization goes from one equilibrium to the other state equilibrium while in the other case the switch failed this happened obviously because of the different realization of the noise so we worked on this topic and we end up with semi-analytical formulas for the probability density function of distribution of the switching time for given system parameters and applied field so here are shown in the upper row the PDF where the black curve is semi-analytical function and the red and blue dashed curves are respectively the results of using Langevin dynamics of a uniform magnetized body simulation and full micromagnetic simulation there's a good agreement between the analytical results and the numerical results except for very high fields where probably non-uniform these non-uniformities become relevant in the dynamics and also shown the cumulative density function in the lower row now we move to the last topic which is the ultra-fast dynamics this is the activity I've been working on during my period in Sweden so I worked together with a group of experimental physicists so before explaining what they want what is the object of their search I want to give a quick overview of the method they used for experimental measurement in particular the MOC and the pump probe so MOC stands for magneto-optic care effect which is a physical effect actually exploited to measure the magnetization in thin films the idea is that magnetization modifies the electric permittivity of the material and hence we obtain that the refractive index for circularly polarized waves is different depending on whether the wave is left or right polarized and this results in a different polarization of the transmitted wave compared with the incident wave this is called the Fardai effect in the same way also the reflected wave is different from the incident wave and this is actually the MOC so that they send a wave electromagnetic wave to the specimen and then they analyze the polarization of the reflected wave in order to estimate the magnetization the pump also they use the pump method since in ultrafast dynamics you are going to observe a phenomenon that lasts for just a few picoseconds and it is not possible to take several measurements of the magnetization in such short time for this reason the event they want to measure is triggered several times using a strong magnetic field which is called the pump field and then they use a signal for mug reading that is called the probe field and so they repeat several times the same phenomena and every time they took a measure with a different lay from the time when the phenomena was triggered this allowed to reconstruct the shape of the magnetization during the phenomena this is an example of their experimental setup so there's a laser a semi-reflective mirror takes part of the laser that is used for the probe then an optical rectifier is used to generate the terras field which is focused on the sample using parabolic mirror this yellow piece in the figure is sample which is placed between four electromagnets and then the probe laser the probe wave is reflected and goes to the analyzer it's not worthy that the length of the path of the probe laser can be just adjusted by mechanically moving to mirrors okay this is what would concern the experimental setup and now I want to talk of the actual topic of the research so first there are a few observations regarding the LLG equation this is an equation that is of first order in time it means that if the magnetization is perfectly still and I apply a magnetic field instantaneously like a step like variation the magnetization goes from zero velocity to procession velocity immediately without any transient like there's no any inertia at all this is somehow a little bit strange physically but it is not the only strange thing in particular a few details about the history of this in 1955 Gilbert derived the Gilbert equation in this in doing this he noticed that he had to use an inertia tensor with two principal moment of inertia equal to zero which he considers somehow physically anomalous also later in 1996 and 2004 some other physicians found some strange behavior of spin dynamics on the picosecond scale although this happened for a slightly different type of system and later in 2011 Wigrow and Charnay gave a full derivation of another equation with inertia which is the one shown here with this extra red term which is of second order in time so what are the effects of this extra term on the magnetization dynamics first there's not just precession anymore but when a field is applied there's possibly a mutation mode around the precession trajectory moreover the frequency response is now one second peak which is called the mutation peak and is shown in the figure and this is what they were going to observe in the experiment so the idea was to use a magnetic field with a spectrum that is sharply peaked around the frequency and as they use a frequency close to the resonance frequency of mutation they expect to see a higher response of the magnetization normalized to the intensity of the applied field and also difference in the phase between the phase between the magnetization response and the applied magnetic field so these are results of a simulation basically simulation are either in good agreement with simulation of the theoretical equation and also by doing a fit of the frequency response they clearly see the presence of a resonance peak at roughly 600 gigahertz which is way higher than the frequency of ferromagnetic resonance although this is an experimental work which I was not directly involved in we gave theoretical support regarding some important assumptions they did in particular the uniformity of magnetization and the effect of temperature and we also had simulation and gave some theoretical model to obtain parameters starting from parameters for simulation starting from the results obtained from the measurement so in conclusion after a brief overview of the general theory and the applications I developed techniques for the ferromagnetic resonance which as I said has a renewed interest also because of the microwave assisted magnetic recording I developed both numerical and semi-analytical tools in order to deal with problems of data retention and switch reliability and last we gave theoretical support for the first experimental observation of the mutation in magnetic bodies this is right now probably more fundamental physical fact than a usable thing for application but it's probably become interesting also for application in the future since the operating speed of information technologies is constantly growing finally this is a list of my publication which counts five journal articles two conference papers and one per print that is right now under revision for a journal and thank you for the attention ok ok grazie valentino scalera per la presentazione siamo abbastanza nei tempi c'è tempo per qualche domanda io faccio qualche domanda prendendo spunto dalle commenti ricevuti dai revisori esterni innanzitutto uno dei due revisori il professor Stefano Bonetti della Stockholm University quindi immagino che vi siate conosciuti nel periodo svedese lui diciamo suggeriva di rafforzare le conclusioni in merito a che cosa è stato ottenuto però mi sembra diciamo di vedere che lei ha preso in carico questa osservazione e diciamo nelle conclusioni anche che ha delineato nella presentazione ora è molto più chiaro diciamo molto più chiara la sintesi dei risultati ottenuti l'altro revisore faceva qualche altra osservazione ha fatto una serie di osservazioni che lei ha preso in carico sulle pubblicazioni questo è un aspetto che emerge spesso perché le pubblicazioni degli italiani molto spesso hanno l'ordine degli autori in ordine alfabetico non si rispetta invece un criterio più internazionale anche se poi non esiste uno solo possibile in cui il primo autore è quello che ha contribuito maggiormente e quindi diciamo il revisore che in questo caso in questo caso è Luis Lopez Diaz dell'Università di Salamanca chiedeva appunto di conto di quale sia stato il suo contributo specifico nelle singole pubblicazioni ora non le chiedo di diciamo spiegarlo per ogni per ciascuna pubblicazione ma insomma fare una una sintesi del suo contributo nelle varie pubblicazioni scientifiche in cui è stato coinvolto sì allora diciamo nelle primissime pubblicazioni il contributo è effettivamente stato più marginale successivamente ho partecipato maggiormente in realtà c'erano anche dei lavori in cui sarei poi stato come primo nome però devo dire che queste sono state poi ritardate dal fatto che avessimo precedenza nel completare alcune ricerche iniziate in Svezia che vi temiamo anche più importanti ora al di là dei risultati ottenuti per l'inerzia nella dinamica di magnetizzazione durante la mia attività in Svezia ho anche fatto ricerca su un altro esperimento su un altro tipo di esperimento che sempre era svolto dal gruppo con cui ho collaborato lì di cui tuttavia non siamo poi infine venuti a capo questo mi ha causato il ritardo di alcuni lavori che sono poi stati solo di recente proposti per alcune conferenze quindi posso anche andare un po' più nello specifico dei contributi dati nelle diverse pubblicazioni ma forse non è diciamo che ci sono delle pubblicazioni in cui lei nonostante non sia stato primo autore e come si aspettava il revisore ha comunque diciamo dato un contributo fondamentale rilevante sì no partecipazione c'è stata ovviamente il fatto che non sia che non sia primo autore ovviamente di questo non c'è non posso spiegare molto nel senso che è in evidenza però ho collaborato anche se ovviamente non non è no vabbè io le do questo suggerimento più in generale dato che appunto questa è una cosa che emerge spesso per il quindi vale per lei ma in realtà vale colto questa l'occasione di questa diciamo osservazione del revisore per sollevare la questione per vale in generale ecco nel proprio curriculum anche scientifico è importante andare a sottolineare qual è stato il proprio contributo personale perché appunto lei mi ha appena detto che in alcuni casi è più marginale in altri casi è più sostanziale dipende dalla pubblicazione quindi diciamo adesso soprattutto ultimamente è buona norma andare a essere più espliciti possibili quindi indicando per ogni pubblicazione qual è stato il proprio contributo fermo restando che è evidente ed è chiaro qual è il contributo che lei ha dato alla ricerca globalmente con la sua tesi di dottorato perfetto allora io per quanto mi riguarda ho finito quindi lascio la parola ai colleghi e altri membri della commissione Michele e Giovanni se vogliono fare ulteriori domande ma sì mi sentite sì allora io sì ho un po' di domandine allora prima di magari andare in quale un pochino più troppo forse dettagliate anche un po' a beneficio di sarà perché appunto forse sono più del campo quindi mi piace anche evidenziare cose che lei ha un po' sorvolato la parte finale che è una parte molto molto interessante soprattutto nella parte forse non dando anche una chiarissima idea di come funziona il meccanismo dell'esperimento capisco che lei è teorico quindi è ovvio che abbia dovuto relegare un aspetto un po' più marginale l'esperimento però potrebbe essere un po' interessante se spiegasse meglio perché nel setup fa vedere dei laser che sono in realtà dei laser visibili vincili infrarossi poi parla di tererz e appunto poi parla di pampe probe e sarebbe interessante capire anche in che senso quando utilizziamo della luce diciamo usiamo dei fotoni in qualche maniera dobbiamo interagirci con questo campo magnetico quindi magari un paio di paroline su questa cosa insomma magari se non so se vuole riprendere la slide in cui faceva vedere il setup così cerchiamo di capire un attimo più facile magari in data diciamo per i fotoni l'esperimento è inteso molto basandosi su modelli classici quindi parere più di radiazioni elettromagnetiche il cuore dell'esperimento sta nel fatto che l'eccitazione del materiale ferromagnetico è fatto utilizzando campi magnetici che variano molto molto velocemente nel tempo quindi si parla di dinamica ultraveloce perché questi perché i campi magnetici che applicano in alcuni casi pochi picosecondi o comunque riescono a fare anche campi che oscillano ad alte frequenze con contenuti spettrali attorno ai 600-700-800 gigahertz quindi l'idea è questa cioè i campi magnetici quindi intende il campo magnetico intende della radiazione elettromagnetica in questo caso che sarebbe la luce sì c'è un campo elettromagnetico quello là che interagisce direttamente con la magnetizzazione è quello magnetico sì quindi diciamo la parte del setup dal laser che include i specchi parabolici e va sul campione è la parte utilizzata per creare questo campo magnetico intenso e focalizzarlo sul campione da qui una piccola parte estratta e viene utilizzata come probe una parte con un'energia tutto sommato piccola che è utilizzata non per innescare il fenomeno ma semplicemente per la misura quindi l'idea è che una volta che è stato realizzato il campo di pump viene mandato il primo quello di pump e poco dopo quello di probe e quello di riflesso viene utilizzato per la misura questo esperimento viene ripetuto diverse volte modificando un pochino la lunghezza del percorso fatto dal raggio di probe in questo modo si riesce a ottenere un ritardo variabile poi assumendo che tutti gli esperimenti procedano allo stesso modo in termini di magnetizzazione ma quindi sul probe si osserva cosa un transiente di cosa della riflettività del materiale allora si analizza la polarizzazione questo perché ok allora si analizza la polarizzazione quindi c'è una polarizzazione ben definita del fascio ok e quindi anche vedo che c'è anche un tilt del fascio rispetto al campione che immagino sia necessario diventa ellittico ok e invece tornando sempre alla slide mi sembra quella successiva quella dove si parlava della nutazione adesso forse anche perché era tardi perché ormai siamo all'ultima presentazione mi sono un attimino perso il diciamo qual è il meccanismo fisico di questa nutazione soprattutto perché a questo punto questo studio di questo o meglio questo aver acquisito e aver modellizzato questo fenomeno può essere importante ecco in qualche maniera che contributo il meccanismo fisico fondamentale che genera questa inezia della magnetizzazione su questo in realtà c'è molta controversa in letteratura sono state date delle derivazioni teoriche del dove posso originare questa inezia ma questa inezia ma tra di loro non sono in pieno accordo nel senso che articoli diversi attribuiscono questa a effetti diversi quindi nel lavoro di Wegrove c'era una derivazione partendo da da un modello di meccanica lagrangiana che modellava diciamo faceva una modellizzazione senza entrare troppo nel in profondità su quali sono i meccanismi fisici di origine alla base ma basandosi un po' sull'idea che ci fosse la magnetizzazione e un momento angolare che non fosse necessariamente allineato con la magnetizzazione tra l'altro questi lavori tra di loro riportano possibili costanti di tempo per il moto di nutazione che variano anche in diversi ordini di grandezza quindi se devo dire il meccanismo fisico sottostante non è ancora pienamente compreso quello che era più interessante è che questa equazione fornita da Wegrove nel 2011 non era ancora stata vista in modo chiaro sperimentalmente e questo diciamo il contenuto più innovativo era una cosa che era stata proposta vi erano degli indizi che potesse funzionare ma una chiara visione di questo fenomeno non c'era e osservando invece un picco di risonanza lontanamente fuori da quello della risonanza ferromagnetica nota è una buona argomentazione per convalidare quella che era la teoria proposta da Wegrove ok e c'è una qualche relazione tra la frequenza di magnetizzazione e la mutazione oppure questa frequenza che è nel modello quindi a questo punto immagino abbiate perlomeno capito questa costante tempo dove è inserita in che termine è inserita e più o meno a cosa si possa attribuire c'è un modo in cui per esempio analizzando materiali diversi o analizzando strutture diverse si può validare che per esempio ci si aspetta un periodo diverso da questo tipo di materiale ad esempio si può diciamo arrivare sicuramente a validare alcune teorie di fondo più di altre perché abbiamo un range che in realtà non varia diciamo si è fatto il test con tre materiali e il range di frequenza in cui si osserva la notazione non varia tanto quanto è previsto teoricamente ma non abbiamo ancora svolto questo lavoro di diciamo si può continuare su questo su questo percorso non è ancora ok ok è ancora all'inizio ok ho capito ho capito va bene va bene ok diciamo che io posso fermarmi qui tranquillamente avevo qualcosa altro ok allora quindi se non ci sono altre domande da parte di Giovanni direi che va bene come scusami Giovanni non ti ho sentito va bene va bene così non ho domande grazie perfetto allora diciamo possiamo questa era l'ultima presentazione della giornata direi che possiamo chiudere noi come commissione andremo avanti con i lavori ma liberiamo i candidati quindi diciamo giusto un paio di parole sul prosiego ora abbiamo terminato quindi i colloqui con i candidati la commissione quindi si riunirà per valutare i risultati scientifici conseguiti il grado di approfondimento delle metodologie per la ricerca negli specifici settori e della formazione scientifica che avete raggiunto nel corso degli studi di dottorato considereremo l'originalità della tesi finale e terremo conto dell'esposizione che ne avete fatto durante le presentazioni come avete risposto insomma ai nostri commenti alle nostre domande terremo in conto ovviamente anche la votazione espressa dal collegio dei docenti sulla complessiva attività svolta nel corso del vostro dottorato e quindi infine proporremo che proporremo o meno che vi venga conferito il titolo di dottore di ricerca esprimendo poi un giudizio sintetico che può variare tra sufficiente buono ed ottimo quindi voi riceverete queste informazioni dopo che avremo terminato i lavori formalmente immagino dal coordinatore del dottorato quindi diciamo vi ringrazio per le vostre presentazioni mi congratulo per i risultati che avete raggiunto mi auguro e spero che possiate proseguire le vostre nel mondo e possiate farvi anzi sono sicuro che possiate farvi onore come meritate mi è fatto piacere che osservare ascoltare che avete trattato dei temi estremamente attuali quindi non si può dire che la ricerca della Federico II non sia al passo con i tempi cutting edge current come si dice ancora auguri non so se gli altri membri della commissione vogliono aggiungere qualcosa e se no vi faccio il mio in bocca al lupo per il vostro futuro e vi auguro una buona serata no io devo aggiungere mi unisco ovviamente insomma ai complimenti per i risultati di oggi presentati oggi che ho visto oggi io non sono della Federico II non vengo dalla Federico II quindi non posso essere fiero della Federico II ma posso constatare come effettivamente quello che hai detto è assolutamente vero e quindi congratularmi e fare i migliori auguri insomma mi unisco anche io alle congratulazioni e davvero i migliori auguri per il vostro proseguo di cartiera perché questo è solo un inizio ok vale per Federico II vale per tutte le università italiane diciamo noi italiani riusciamo sempre a farci valere a farci onore nel mondo quindi mi auguro il mio augurio diciamo a tutti i nuovi dottorandi diciamo che possano mantenere questa tradizione ormai diciamo ben assestata nel nel tempo diciamo e diciamo e nel mondo diciamo ok allora di nuovo buona serata interrompiamo interrompiamo il collegamento qui con voi i candidati e ci trasferiamo poi noi nella nostra sala diciamo virtuale dedicata alla commissione di nuovo buona serata buona serata grazie 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 grazie